L'udienza precedente avevamo riservato a oggi la constatazione della consistenza del fascicolo e se ci sono da fare osservazioni su atti che non ci devono stare o atti che invece mancano e ci devono stare le parti possono dire, poi non solo ai fini della decisione ma anche agli effetti della completezza del fascicolo dobbiamo fare una ricognizione dei sotto fascicoli per vedere se ci siano tutti i provvedimenti in materia di libertà personale che sono stati emessi nei confronti dietro e di Maccari. Pubblico Ministero? Non ho osservazioni Presidente, mi sembra che sia completo il fascicolo. Pensatori delle parti civili? Nessuna osservazione? Gli effettuari degli imputati? Nessuna. Diamo atto della utilizzabilità del fascicolo come attualmente composto, possiamo dichiarare chiuso il dibattimento per la parola del Pubblico Ministero. Grazie Presidente. Dico subito che cercheremo, io e il collega Marini, di occuparci di distinti aspetti anche se questa prefessa metodologica non sarà possibile in concreto rispettarla a tutto tombo. ma almeno nelle prospettive, almeno nelle intenzioni, questo è l'indirizzo a cui intende attenersi l'ufficio del Pubblico Ministero in questo processo. dal Presidente Signore della Corte si avvia alla conclusione questo processo che da molte fonti pubbliche che viene definito il quinto processo moro e che io definirei riprendendo il titolo di un volume di Milan Kundera il libro dell'oblio, ma in un senso però molto specifico e fortemente psicologico. è stato cioè in questo processo e nell'istruttoria che l'ha preceduta un tentativo di rimozione delle proprie responsabilità per il trascorrere del tempo e la corta memoria degli uomini. tuttavia la vicenda Moro ancora una volta è ritornata sia pure a distanza di tanti anni da quei tragici fatti alla sua centralità umana e storica va finito col condizionare i comportamenti di due dei suoi protagonisti Etro prima e Maccari poi fino al disvelamento della parte di verità da loro vissuta e da loro conosciuta consentitemi anche una breve assimilazione di questo processo ai meccanismi tipici quello che i classici chiamavano il teatro dell'annizione del tipo di teatro cioè in cui la vera identità dei protagonisti veniva disvelata solo alla fine della trama di una trama che si basava su equivoci su scambi e sostituzioni di persone e che mi pare sia calzante rispetto a quello che è avvenuto in questo processo anche un osservatore disattento di questa vicenda processuale si è accorto e non poteva non accorgersi del mutamento radicale che ha tenuto l'imputato Maccari per lungo tempo l'imputato Maccari si è autodefinito vittima di una giustizia ottusa ha poi molto di recente dichiarato pubblicamente di essere il quarto uomo di via Montalcino in un recentissimo articolo di un settimanale di epoca viene descritta molto bene l'ambiguità psicologica di Maccari viene analizzata con una notevole introspezione capacità introspettiva la sua capacità di mentire agli altri e in fondo anche a se stesso è un articolo che mi ha colpito molto per la sua profondità e le culine essenziali fanno capire come una capacità di mentire agli altri e a se stesso abbia condizionato molto i comportamenti della vita privata e poi della vita giudiziaria di Maccari capacità di mentire che portò molte autorevoli personalità del mondo politico istituzionale a prendere anche posizione apertamente in suo favore e a definire senza mezzi termini come l'indagine al suo carico fosse un'indagine senza prove un'indagine cioè nei confronti di una persona innocente tenuta ingiustamente in prigione solo sulla parola del relato della testimonia Diana Faranti una capacità di mentire che si è manifestata nel tempo sia nei rapporti con le strutture giudiziarie e sia nei rapporti personali avete sentito le dichiarazioni di Maccari avete ripercorso inter dei processi nei quali egli è stato protagonista avete cioè avuto modo di vedere come egli abbia sostanzialmente omesso nel corso di tanti anni le proprie responsabilità in ordine ai fatti più gravi che gli aveva commesso nel suo percorso politico come si diceva una volta capacità di mentire che però non è solamente storica ma che si è attuata anche davanti a voi anche davanti a questa corte nel ricordo del pubblico ministero che vi parla vi è un'udienza drammatica che si è tenuta davanti a voi ed è l'udienza del confronto tra Adriana Faranda e Germano Maccari un confronto drammatico e mai la parola confronto credo che identifichi meglio una situazione quale è quella che si era appunto determinata davanti a voi tra un Adriana Faranda che ripeteva la sua verità e un Germano Maccari che continuava a negare tutti i fatti che l'Adriana Faranda andava riferendo capacità di mentire che in qualche modo lo accomuna e che appartiene anche all'altro imputato di questo processo ricorderà la Corte che anche Etro Reimondo non è nuovo alle aule giudiziarie ricorderà la Corte che vi è stato un processo a carico di Etro Reimondo e di Gioia nel quale la Corte d'Assise irrogò all'Etro Reimondo una mite condanna per partecipazione a banda armata mite condanna basata fondata sostanzialmente dalla accettazione di un memoriale predisposto da Etro Reimondo nel quale ci si dichiarava appartenenti per pochissimo per pochissimi mesi all'organizzazione armata Brigate Rosse ma si tacevano le gravi responsabilità che Etro Reimondo aveva avuto nell'ambiente brigatista la Corte d'Assise aderì alla prospettazione del memoriale fortemente omissivo predisposto da Etro Reimondo e concordato con l'altro imputato di Gioia al fine di ottenere lo Stato di dissociato dalla lotta armata e quindi risolvere definitivamente tra virgolette il suo problema giudiziario avete visto come più volte lo stesso Maccari ha riportato della sua esperienza nell'area omogenea di Re Bibbia quale superamento dell'esperienza brigatista esperienza brigatista peraltro mai affermata fino alle scorse udienze l'area omogenea di Re Bibbia raccoglieva come la Corte sa una serie di persone che avevano avuto ruolo attivo nella lotta armata in Italia ma che facevano del superamento della lotta armata che facevano della messa in discussione definitiva dei valori tra virgolette sottesi all'esperienza brigatista il parametro per la vita successiva per il tentativo di reinserimento nella vita sociopolitica dell'Italia un presupposto credo che doveva essere ed è stato per molti quello della effettiva dell'effettiva messa in discussione di quelle prospettive e di quelle esperienze non credo che si possa disconoscere come per molti degli appartenenti all'area omogenea questo fosse un dato fortemente acquisito ma cari anche facendo parte dell'esperienza dell'area omogenea di Rebibbia mai aveva detto di aver appartenuto alle brigate rosse il processo che è una è una strana vita biologica comporta mutamenti cambiamenti rimandi e sia per etro prima per etro molto prima per etro che per Maccari molto dopo è arrivato il momento della resa dei conti voi ricorderete e io lo ricordo molto bene l'espressione ed è operata dalla Faranda in quest'aula arriva a Samarcanda per tutti si arriva a Samarcanda per tutti per tutti quelli che hanno compiuto dei fatti gravi e che vengono chiamati a rispondere davanti a un giudice di questo ma Faranda riferì questa espressione che mi colpì molto perché non c'è dubbio che il peso della coscienza rispetto a accadimenti così gravi è un peso che diventa a un certo punto insopportabile la Faranda non aveva riferito della responsabilità di Maccari fino al momento in cui l'autorità giudiziaria di Roma non aveva preso provvedimenti restrittivi nei confronti del Maccari io ricordo per esperienza diretta il travaglio la difficoltà della Faranda in un pomeriggio in una serata ottobre del 93 nei quali la Faranda tormentando la propria ottimità si decise a confermare ciò che l'autorità giudiziaria aveva già acclarato attraverso il proprio provvedimento restrittivo ma la decisione della Faranda presa in quel momento e che davanti a voi vi ha ripercorso che vi ha giustificato nelle sue ragioni psicologiche è stata sicuramente anche per lei una decisione molto difficile decisione molto difficile perché comportava e comportò una sorta di tradimento rispetto alla posizione di dissociazione assunta in tutti i processi dalla Faranda stessa la Faranda vi ha dato una giustificazione molto alta molto nobile del perché abbia deciso di tradire la posizione giuridica e giudiziaria nella quale si era sempre collocata le ragioni esposte dalla Faranda sono delle ragioni nobili perché la Faranda vi ha detto di fronte all'incalzare di tutta una serie di polemiche che tendevano a rimettere in discussione un'ennesima volta le ricostruzioni giudiziarie relative alla vicenda Moro non ha più avuto il coraggio di omettere quello che sapeva in relazione alla gestione del sequestro Moro e all'omicidio dello statista provate a vedere qual è stata la difficoltà di Adriana Faranda in questo processo nell'indagine prima ma nel dibattimento anche la Faranda ha dovuto fronteggiare tutta una serie di attacchi alcuni in buona fede altri probabilmente non in buona fede in ogni caso è stata oggetto di un agguerrito fronte di attacchi pubblici e giudiziari in una recente intervista la Faranda si sottrae alla domanda che le viene rivolta dal giornalista che tendeva a farle dire avete visto aveva ragione e io ho apprezzato molto questo atteggiamento perché qui non si tratta di avere ragione e di avere torto il processo tende come è evidente all'accertamento della verità all'accertamento dei fatti ed è la forza di questi fatti che hanno ragione non le singole persone che contribuiscono all'accertamento di questi fatti in questo processo dunque la Faranda ha avuto un ruolo fondamentale sicuramente ha sempre coerentemente tenuto un comportamento limpido nelle scelte anche se sofferte per le ragioni che vi ho indicato e stabile nelle sue affermazioni anche di fronte alla negazione assoluta da parte dell'imputato Maccari in sede di confronto e tuttavia anche qui avete visto davanti a voi come dicevo all'inizio modificare l'atteggiamento di Maccari in questo processo peso ormai insopportabile della propria coscienza ha voglia di affermare i propri comportamenti in qualche modo in funzione anche catartiche e da ultimo ma il dato non è irrilevante il peso oggettivo ricavabile dalla positività della perizia grafica sui documenti di cui la corte ha disposto gli accertamenti hanno fatto il resto e hanno portato quindi all'assunzione anche per Maccari delle proprie responsabilità in ordine a questa vicenda questa vicenda ha signori della corte veramente come da manuale direi più fonti di prove anzitutto la sagace investigativa della polizia giudiziaria che mai ha smesso di indagare di investigare su quella parte della vicenda loro che era rimasta nonostante quattro processi celebrati sul punto in qualche modo scuro e va dato atto agli ufficiali di polizia giudiziaria della DIGOS di aver avuto l'intuito investigativo di identificare nel Maccari la persona che secondo le ricostruzioni giudiziarie veniva indicata come l'ingegnere Altobelli come il quarto uomo di Diamontalcini quindi sicuramente un primo capitolo di prova una prima grossa fonte di prova di questo processo sono le indagini della polizia giudiziaria a cui si sono aggiunte le dichiarazioni dei responsabili e delle persone coinvolte in questa vicenda sicuramente le dichiarazioni della Faran sicuramente le dichiarazioni dietro ma non v'è dubbio che anche in questo secondo contesto hanno importanza la dichiarazione di Maccari ci sono state nelle indagini per la verità non nel processo dichiarazioni di altre voci processuali di altri soggetti che pure avevano contribuito a delineare il quadro di questa investigazione e mi riferisco segnatamente alle dichiarazioni di Anna Laura Braghetti altra responsabile dell'appartamento di via Montalcini la quale mi sia consentito l'accenno pur avendo svolto molte dichiarazioni in serie di indagini preliminari dichiarazioni che sostanzialmente poi parlerà della posizione di Maccari si vedrà la loro compatibilità rispetto alle ricostruzioni fatte da Maccari ma io su questo non non intervengo dico l'onorato Braghetti aveva svolto molte affermazioni circa gli accadimenti di via Montalcini 8 aveva sì taciuto il nome del militante irregolare che aveva funto da suo compagno nella gestione dell'appartamento ma aveva dato molte indicazioni su quello che era avvenuto in quei 55 giorni e in quello che era avvenuto il drammatico 9 di maggio del 1974 non comprendo non riesco a capire quale sia stata la ragione invece del silenzio della nola Braghetti chiamata due volte davanti a questa corte davanti a questa corte dell'anna Laura Braghetti ha inteso non rispondere sicuramente il suo diritto processuale la corte ricorderà qual è la posizione dell'ufficio del ministero pubblico in relazione alle persone che hanno invece avuto status di dissociato dalla lotta interventi non non era questo il caso di Anna Laura Braghetti e si è preso atto semplicemente e tu cura della dichiarazione di non rispondere due volte fatta davanti a voi segnamento che questo pubblico ministero non si sa spiegare ma che sicuramente contrasta con il tentativo la prospettiva la prospettazione di chiarimento definitivo delle vicende eversive in Italia perché questa è la sede più propria molto di più che non la sede dell'istruttoria o la sede dell'indagine per rendere chiarezza su questi fatti su cui l'Italia continua a interrogarsi un ultimo punto volevo porre in evidenza in questo processo ed è quello che deriva da una potrei definire la singolarità di un processo di terrorismo a mia memoria non vi è stato mai un processo o appunto eversivo di tipo terroristico che abbia avuto tra le fonti di prova addirittura un dato oggettivo derivante da una perizia grafica in qualche modo è veramente una singolarità perché i processi di terrorismo la mia esperienza è comunque in questo senso si sono sempre basate sulle dichiarazioni sul ritrovamento di armi nei covi documentazione contabile documentazione ideologica ma a mia memoria io ricordo soltanto un processo a carico di Barbara Balzerani nel quale venne effettuata una perizia stilistico-linguistica che attribuì alla stesura alla mano della Balzerani di alcuni documenti e versini in relazione all'omicidio del professor Tarantelli ma che vi fosse stata una perizia grafica un dato oggettivo derivante dalle conoscenze del perito in un processo di terrorismo di eversione dell'ordine democratico è veramente una rarità in questo processo noi abbiamo anche questo tipo di materiale provatore inequivoco ineccepibile e fortemente fondante rispetto alle determinazioni finali che il pubblico ministero prenderà e che la corte prenderà non c'è dubbio che in queste condizioni quando cioè il materiale offerto alla decisione di una corte d'assise è di tale imponenza è di tale concludenza dichiarazioni concordi confessione degli imputati perizie gravi il ruolo del ministero pubblico ne risulta facilitato sicuramente ma questa facilitazione in qualche modo se ne deduce una sorta di ridimensionamento perché il dibattimento ordinario comporta la difficoltà la fatica di valutare di valutare i tasselli indiziari di ricomporli in un ordinato puzzle che possa dare conto di tutte le implicazioni in questo processo tutto questo lavoro tutta questa fatica la quale il pubblico ministero si predisponeva non ha ragione di essere si tratta in questo processo quindi soltanto di equiparare le condotte criminose a quella pena in concreto equa da irrogare agli imputati estrema sintesi direi che questo è il compito pressoché unico che incombe alla funzione del ministero pubblico la proposta cioè di una condanna che tutto considerato si paesi la più vicina alla funzione riparatrice lo strappo al contesto sociale arrecato dai crimini che sono qui in contestazione alla capacità sanzionatoria della decisione di condanna che qui andrà a richiedere e infine alla personalità complessiva delle persone chiamate a rispondere in questo giudizio io ho quasi finito signor presidente e signori della corte perché il mio compito è relativo alla posizione dietro il mio compito si ferma alla richiesta di affermazione della penale responsabilità dietro che è confesso sia per ciò che riguarda l'omicidio del magistrato dottor Riccardo Palma sia per quello che riguarda le attività preparatorie propedeutiche rispetto alla vicenda di afferminare io credo che proprio l'omicidio del dottor Riccardo Palma sia perché temporalmente si colloca all'inizio della vicenda processuale che la corte chiamata a giudicare sia perché di pari gravità rispetto alle altre imputazioni sia il primo reato da cui partire e di cui tenere conto per quella dosimetria della pena da infliggere a etro pochissime battute sull'omicidio del dottor Paolo poco o nulla infatti influisce sull'aspetto della responsabilità penale dell'etro il comportamento tenuto dallo stesso quando si trovò a stretto contatto con il magistrato di cui era stata decisa e programmata l'uccisione i termini della responsabilità penale dietro non vengono infatti modificati dalla sua esitazione è l'attimo fatale il prestanome di via Savorelli per conto di Morucce e della Faranda non sparò contro il dottor Paolo ma la sua azione si inserì perfettamente in quel progetto della contro di quella strutturazione interna delle brigate rosse di sopprimere la vita di un uomo giusto la cui unica colpa fu di diligentemente adempiere le funzioni ministeriali che gli erano state conferite voi ricorderete sul punto quanto in un passaggio la stessa Faranda ebbe a dire sulla tragicità dell'errore commesso pare in palma un nemico del popolo varvato dunque l'omicidio del dottor Riccardo Palma è il reato da cui partire per adeguare secondo quei calcoli un po' burocratici ma che sottostanno poi alle decisioni finali di una corte d'assise per concludere sulla quantificazione della pena in concreto da erogare ad etro io credo che etro sia meritevole signor presidente e signori della corte dell'attenuazione della pena e i sensi dell'articolo 62 bis del codice penale non può essere sicuramente applicata ad etro la legislazione speciale relative alla dissociazione o la collaborazione rifatti di terrorismo per un fatto squisitamente tecnico come è a tutti noto quelle leggi hanno una vigenza legata al tempo e tuttavia il comportamento tenuto da etro se non vi fosse questo sbarramento temporale sarebbe sicuramente da ricomprendere in quel tipo di legislazione speciale fortunatamente il nostro codice ha una una valvola di di salvezza di salvaguardia e la salvaguardia del 62 bis del codice penale e del 133 del codice penale il comportamento dietro deve essere valutato nella sua spontanea confessione sin dall'inizio dei fatti nella sua collaborazione fattiva in tutte le fasi del processo di questo processo ma non solo di questo processo che è noto alla corte come etro sia stato indicato dal procuratore generale in sede di appello nel processo che veniva definito in moro quadre che veniva imputato al varo lo iacono e la rilevanza e l'importanza delle dichiarazioni di etro anche in quella sede sono state positivamente spese dunque etro si trova solo per uno sbarramento temporale a non poter usufruire della legge speciale questo io credo che sia un elemento fondamentale per dichiarare non solo la sussistenza degli attenuanti generichi ma anche per dichiararle prevalenti rispetto all'aggravante contestata così è radicando in anni 14 la pena base per l'omicidio del dottor Palma in capo etro tale pena va aumentata per la continuazione dell'articolo 81 capoverso del codice penale ad anni 15 di reclusione mi seguono evidentemente le pene accessorie per leggi ho finito signor presidente e signori della corte il processo di certo afferma una propria verità ma in questo processo io credo che la verità del processo si avvicina molto a quella storica e se e tanto più questo avvicinamento questa sovrapposizione avviene vuol dire che lo strumento giudiziario merita ancora grande fiducia già che esso rappresenta il risultato del lavoro della fatica di tutte le parti che vi hanno contribuito vi ringrazio signor presidente e signori della corte spende per salire cinque minuti sospensione che devo esaminare degli atti cinque 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 grazie signor presidente signori giudici proprio ieri sera la televisione italiana ha riproposto un uno speciale come si suol dire di seggio paroli la notte della repubblica questa riproposizione è stata preceduta anche da una conferenza stampa la quale si è parlata degli anni da non dimenticare viene in un momento particolare in un momento in cui vedo sia dovere di tutti oltre che far conoscere come si dice far ricordare a riflettere soprattutto da parte dei giovani quei giovani che non sono entrati nel gioco perverso del terrorismo è soprattutto un dovere signor presidente di fare chiarezza e non vogliamo usare l'altra parola più forte fare verità se possiamo usare questa espressione di dire finalmente tutto ciò che è stato di non nascondere più niente basta con gli angoli bui basta con i buchi neri da riempire con i riflettori della luce della verità siamo al quinto processo e per fortuna la vicenda a Moro non ha subito invece quelle disavventure che ha subito un altro processo importante nella nostra storia giudiziaria che è stato ricordato ieri in questo speciale il processo di Piazza Fontana perché si è arrivato al sesto processo e non c'è stata nessuna verità sicura certa la molla che ha fatto scattare la sofferta testimonianza della faranda è stata appunto questa signor Presidente quella di fare chiarezza quantomeno quella di fare chiarezza se non proprio quella di dire tutta la verità finalmente tutta la verità di fare completa luce su una vicenda tragica sulla quale restano certamente ancora lati oscuri e sulla quale bisogna riconoscere signor Presidente che è stato ricordato dal collega Ionda non si è mai cessato di indagare nonostante che da più parti venisse l'invito a smetterla perché ormai tutto era stato detto tutto era stato fatto e non c'era più nulla da accertare io la ricordo l'intervista di Moretti proprio in quella trasmissione non c'è più nulla da accertare non c'è più nulla da dire sul sequestro morto tutto è stato detto e quando durante il processo moro qua perché io voglio tenermi nel mio ambito nell'ambito dell'attività giudiziaria svolta da pubblico ministero non voglio invadere altri campi non voglio invadere altri tentativi di ricerca della verità fatti in altro luogo o in altri luoghi quando nel processo moro qua finalmente sono venuti i primi balloni di verità suggetti punti oscuri che hanno riguardato sia la vicenda Moro sia l'omicidio Palma perché stranamente queste due vicende la vicenda di la vicenda di Maccari hanno avuto quasi contemporaneamente queste strane espressioni che venivano usate durante il processo il sesto uomo della colonna romana e il quarto uomo di via Montalcini a cura ai quali sesto uomo e quarto uomo non si era riuscito ancora a andare un volto sesto uomo della colonna romana che era andato per sparare sul Palma e poi non aveva più sparato sesto uomo della colonna romana che era stato il prestanome questa è la frase che si è fatta scappare Morucci durante un interrogatorio ecco perché noi privilegiamo sempre interrogatori in aula in contraddittorio delle parti attraverso la cross examination sesto uomo che è stato il mio prestanome di via nell'appartamento di via Savore e di lì è scattata l'indagine per identificare questo sesto uomo che poi è stato identificato in Ettore il quale poi come è stato ricordato ha ammesso entrambi i fatti cioè quello di aver partecipato all'omicidio di Palma e quello di aver partecipato all'operazione all'operazione Moro quindi noi avevamo assolto il dovere di fare piena luce anche su questi fatti di identificare gli autori di questi fatti perché signori del giurati sono sì anni da non dimenticare ma sono soprattutto sono fatti da non dimenticare fatti fatti gravissimi fatti che hanno insanguinato le nostre strade fatti come quello dell'omicidio di Riccardo Patti hanno spento la vita un magistrato che quel giorno stava legandosi al lavoro come tutti i giorni senza poter minimamente pensare che c'era un etro Raimondo che stava in asguardo con la pistola in pugno pronto a sparagli e un Gallinari con la Scorpion in mano a fare la copertura uomo esce come tutte le mattine per regarsi al lavoro sta dirigendosi verso la macchina etro gli si avvicina e come ha raccontato gli stessi fatti aveva questa pistola messa in questa borsa si era messo addirittura il guanto contro la regola brigatista ha spiegato in uno dei interrogatori e forse questo guanto è riuscito a non fare estrarre l'arma dalla pistola c'è stato un attimo di situazione palma stava salendo sulla macchina si stava allontanando e allora ecco l'uomo di copertura Gallinari con la scotta in mano dalla sventagliata la schiena di questo povero uomo uccidendo questi sono i fatti da non dimenticare sono i fatti che impongono il dovere di indagare fino a quanto ognuno di coloro che ha compiuto questi fatti abbia la sua giusta punizione perché non si può mandare impuniti gli autori di questi fatti e per anni per molti anni ci hanno detto in tutte le sedi e anche purtroppo in sede giudiziaria è l'unica persona a sparare su un moro su un moro sequestrato era stato prospero Gallinari era e quando si facevano delle osservazioni logiche e si diceva ma perché il prospero Gallinari il quale taceva naturalmente seguendo la regola brigadista è riducibile di non parlare alla stessa stegua di quei cinque che voi avete visto sfidare in quest'Aula i cosiddetti irriducibili i quali chiamati a testimoniare a favore di un loro collega brigadista ex brigadista hanno assunto quella posizione di cui poi torneremo a parlare che deve far riflettere riflettere Gallinari nessuna voce a favore o contraria alla tesi che lo vedeva come regicita come colui che aveva sparato sul mordo e tutti gli altri naturalmente silenzio o addirittura a confermare affermando che ormai non c'era più nulla da dire nulla da fare nulla da accertare e poi quando attraverso i processi anche successivi soprattutto con le moro quattro si sono cominciati a porre interrogativi su questo uomo sul quarto uomo di Muglia Montalcini che era stata esaminata durante l'istruttoria formale signor Presidente e che attraverso le indagini si era arrivato poi a scrivere nella stessa ordinanza istruttoria che non esisteva un quarto uomo in via Montalcini eppure c'era stato il senatore Framini che era stato sentito che aveva scritto un libro che aveva riferito o derelato cose che gli erano stati a sua volta riferito da Azzolini che aveva parlato di questo personaggio e quarto uomo a cui non si riusciva a dare a dare un voto e poi ecco poi attraverso come ha ricordato il collega di Honda la sagacia investigativa della Digas e sotto impulso della Procura della Repubblica aveva riaperto le indagini su questo punto si è arrivato a identificare questo quarto uomo si è gridato lo scandalo perché la prima cosa che si è detto non poteva essere Maccari ma no stare sbagliando avete preso un branchio avete giustamente carcerato un innocente fatti da non dimenticare fatti che devono far riflettere anche questi e quando i risultati delle investigazioni o i risultati delle indagini che avevano condotto all'identificazione del quarto uomo in Germano Maccari avevano trovato conforto nella testimonianza della faranda anche qui anche qui è scadenata una delle più vergognose aggressioni nei confronti di un testimone o di una collaboratrice o di una persona che voleva fare chiarezza chiamatela come volete vergognosa aggressione e però ha rafforzato quella faranda la quale naturalmente sapeva di di dire la verità e di non aver fatto altro che chiarezza come dicevo poc'anzi o di aver detto la verità ha rafforzato diciamo così il suo proposito di andare avanti senza timore di smentita né da parte dei suoi ex compagni né da parte di altri e lo ha confermato con il suo carattere coraggioso perché bisogna dare atto a questa donna di aver avuto coraggio in un momento come questo di aver puntato il dito contro Germano Macca soltanto per fare chiarezza soltanto per dire la verità ma non bastava risultati delle investigazioni di questo non bastava le dichiarazioni accusatorie della faranta non bastava occorreva il cosiddetto riscontro obiettivo la frase di cui ci riempiamo riscontro obiettivo è la prova obiettiva la si è invocata per molto tempo fino a quando questa prova perché la si invocava tanto non è stata non è stata trovata voi sapete le vicende di questo documento che ci è prevenuto dalla commissione parlamentare di inchiesta la stagione via Fani sul domicilio e sequestro dell'onorevole morti questo contratto della luce la quale era posta la firma di Luigi Attobey su quella distinta di versamento la quale avevano stati depositati parte del denaro che serviva per l'acquisto dell'appartamento di via Montaccini e sapete anche quali sono state le successive vicende a cariche a cui il presidente mostra il documento chiedendogli se per caso riconosce per sua la firma e Luigi Attobey naturalmente nega e poi il corpo di scena e le more della perizia grafica che era stata disposta ai cui risultati apparivano pacifici scontati quasi e le avete potuto rilevare dalla stessa voce dell'aperito il quale appena si è seduto su quella sedia ha detto risulta con certezza con una certa che la firma ha posto sotto questo contratto è quella di Germano Macchiaro nel frattempo che cosa era successo nel frattempo era successo che poi parlato di peso insopportabile sulla coscienza ma io dico aggiungo che al di là del peso insopportabile sulla coscienza c'è il peso schiacciante della prova raggiunta il peso schiacciante della prova della responsabilità raggiunta in un pubblico dibattimento dopo anni di indagini durante le quali si era sempre programmata la propria innocenza e si era rispinto con sdegno e si era ricompattato anche questi sono tempi che fanno riflettere si era ricompattato a un certo modo di sentire un certo modo di esprimere la solidarietà attraverso comunicare o attraverso testimonianze come quella che avete ascoltato ne voglio citare soltanto una perne altre di persone che hanno soffrito dei benefici di legge voglio citare voglio citare soltanto quella di franceschi che in base alle sue argomentazioni logiche o pseudopolitiche è venuto qui a dire che è esaminato ciò rilevato quest'altro considerato che il quarto uomo di via montaccini non poteva essere Germano ma cari quindi state mettendosi sullo stesso piano di quei cinque riducibili voi avete sentito i quali sono venuti a dire qui qualcuno si è permesso di dire anche che questo processo era utile una burla adesso non mi ricordo bene l'espressione che ha determinato l'intervento del anche del presidente e allora se tutto ciò è vero fatta questa questa premessa allora noi dobbiamo chiederci come valutare la confessione di Maccai come valutare le sue dichiarazioni come risultato di un peso insopportabile sulla coscienza di fatti gravissimi o come il risultato il peso schiacciante della prova ormai raggiunta nei suoi confronti per cui anche per ragioni di opportunità sarebbe stato meglio i fini dell'applicazione della della p sarebbe stato meglio finalmente confessare questo fatto che si era sempre prima tenasemente negato ma prima di rimere questo corno del dilemma noi dobbiamo fare il nostro lavoro per quello di verificare se le dichiarazioni di Maccai anche confessorie trovano il scontro in altre risultanze processuali in modo poi da dire Maccai dice la verità su questi fatti o su questo fatto Maccai invece non dice la verità perché la sua verità è in contrasto con queste risultanze processuali e allora innanzitutto prima di affrontare questo problema voi vi chiedete siamo sempre al cosiddetto riscontro no? dell'attendibilità intrinseca e dell'attendibilità estrinseca ve lo spiegheranno i giudici togati in Camera di Consiglio e prima di tutto bisogna verificare come per qualsiasi testimone come per qualsiasi tentito ma anche per lo stesso imputato naturalmente se sostiene una tesi difensiva che può comportare delle conseguenze giuridiche come per esempio quella della legittima difesa e così via o comunque può comportare delle attenuanti e allora il giudice deve esaminare l'attendibilità di queste dichiarazioni sotto il profilo intrinseco e sotto il profilo estrinseco sotto il profilo intrinseco significa innanzitutto esaminando e valutando la personalità del soggetto a chi provengono queste dichiarazioni uno che ha fatto sempre dichiarazioni precise concordanti coerenti uguali nell'arco della sua vita o nell'arco di un processo oppure provengono da uno che invece già ha mentito o ha quella capacità di mentire di cui è appallato il mio collega e allora la valutazione dell'attendibilità intrinseca fa sorgere più di un di una perplessità un dubbio sull'attendibilità di certe dichiarazioni e perché e perché già è stato ricordato in altre sedi Maccai aveva fatto delle dichiarazioni false diciamo beh proponendo la sua richiesta di dissociazione per ottenere i benefici previsti dalla legge sulla dissociazione non aveva affermato falsamente che lui era fatto in una banda armata fino ad un certo periodo di tempo comunque non era stato mai nella banda armata denominata brigata rossa lui aveva fatto soltanto aveva partecipato soltanto a un'associazione denominata rappo fac che dir si voglia ma aveva nascosto e aveva fatto parte altre sì anche nelle brigate rosse aveva nascosto ciò per nascondere fatti fatti gravissimi come quelle avvenuti in via Fani e come quelle avvenute in via Montalcini e in base a queste false dichiarazioni o comunque le vicenti dichiarazioni aveva ottenuto il dimezzamento della pena che gli era stata inflitta l'esito di processo la stessa cosa è stata già ricordata e l'ha fatta etro Raimondo e allora poi abbiamo accettato con soddisfazione naturalmente la confessione del Meccano però però allora ci cominciamo e ci siamo subito chiesto la domanda ha ammesso di aver partecipato all'operazione Moro su via Montalcini negando azione ma ha detto tutta la verità o sta facendo come ha fatto già precedentemente in cui ha ammesso di aver partecipato all'associazione sovversiva la banda armata denominata Lappa e invece ha negato di aver partecipato anche all'organizzazione delle brigate rosse è la prima domanda che voi vi dovete portare cioè quando Maclari dice ammetto di aver partecipato all'operazione Moro ma il mio compito è stato questo si è limitato a questo sorge spontanea vorrei dire la domanda se si sta ritagliando ancora una volta addosso una responsabilità limitata oppure sta dicendo la verità mi sembra che sia una domanda logica questa fronte a una persona di cui voi già sapete che ha cercato con successo bisogna dire con successo di ritagliarsi in quel momento addosso a una responsabilità limitata per ottenere i benefici della della legge sulla sulla dissociazione e quindi vedete come sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca voi dovete fare questa questa valutazione e poi passiamo a verificare l'attendibilità delle dichiarazioni del Maccari sotto il profilo estrinseco è quello di verificare se le sue dichiarazioni hanno conforto sono corroborate in qualche modo dalle altre risultanze processuali allora noi dobbiamo fare tutta una serie ancora di valutazioni e dobbiamo partire naturalmente prima da ciò che Maccari esclude per poi arrivare al nucleo per dire ciò che Maccari ammette Maccari esclude di aver mai saputo di essere stato ingaggiato di aver volontariamente entrato nelle brigate rosse per partecipare a un'appelazione di sequestro di persona esclude che pur sapendo che si dattava di un esponente noto della DC o di un grande esponente della DC che questa persona fosse mora e che ha affermato che egli vide moro per la prima volta il 16 marzo del 1978 dopo che egli fu trasportato in quella cassa di legno di cui parleremo di qui a poco in via Montacini a base l'appartamento il covo la prigione del popolo chiamatela come volete che egli aveva prestato insieme con la Braghetti insieme con la Braghetti con Moretti e con Calinari io ricordo che durante i processi mori c'è sempre parlato di una certa trasmissione radiofonica fatta da Renzo Rossellini no? lo ricordi? immagino in cui veniva annunciato veniva annunciato prima dell'operazione delle ciglie di via Fani il sequestro di morte non lo sapeva Renzo Rossellini poi si è accettato che girava voce anche all'interno dell'università non è tutto quel mondo l'università l'unico a non saperlo era Maccari e fin dal 1977 quasi un anno prima era stato diciamo così ingaggiato se vogliamo usare questa parola dalle brigade rosse non ci interessa da chi per partecipare a questa operazione di sequestro di un altro esponente della musica cristiana quel Maccari signor presidente che il giorno stesso del rapimento di Moro il giorno stesso in cui arriva Moro ci viene a dire che lui va all'università per fare che cosa per sentire come reagiscono quelli del movimento al rapimento di Moro l'università quelli del movimento sembra che l'abbiano saputo prima e dovevano rapire Moro ma del resto se no reggiamo le liberazioni dietro se vediamo signor presidente questi processi Moro ci hanno fatto tanto penare per perché si immagina sempre chissà quale strategia quale dietologia quale difficoltà poi ci siamo resi conto di chi andava a fare le inchieste edro le mondo di chi era stato scelto per fare la cosiddetta intercettazione della macchina di Moro edro le mondo di chi sarebbe finito sicuramente in via con una arma in pugno un mitra o una pistola edro le mondo di chi doveva andare a fare la raccolta delle armi secondo Casimiro edro le mondo di chi ancora non lo sappiamo ma lo scopriremo aveva il compito di stare in sella a quella moto o onda con un mitra in mano ancora non lo sappiamo ma lo scopriremo ne sono certo e si ipotizza elementi estranei alle brigade rosse servizi segreti uomini della criminalità organizzata e allora per come venivano fatte queste cose qualcuno ha fatto l'inchiesta sì abbiamo sentito sempre parlare di compartimentazione compartimentazione ma chi ci ha mai creduto chi ci ha mai creduto che quelli di via fani non sapessero di via montaccini e così e viceversa lei vediamo vediamo l'altro aspetto più delicato se nella base di via montaccini possa aver fatto accesso a una persona diversa ai quattro che vengono oggi indicati come allora venivano indicati tre e basta per anni ci hanno detto che tre e l'ottanto erano le persone che erano in via montaccini Moretti Gallinari e Labraghetti Moretti ha fatto l'intervista che ha ritornato alla televisione Gallinari non parlava Labraghetti non parlava e per anni ci hanno detto che all'infori di queste tre persone ci hanno detto perché il presidente mi ha la premessa tutto è stato detto dicevano i brigadisti o chi è intorno a loro e tutto è stato fatto per cui non bisogna accertare nient'altro quindi non bisogna accertare nemmeno se per caso c'era il quarto uomo di via montaccini oppure no perché Luigi Attobelli è Gallinari pensate un po' Gallinari che bastava leggere gli atti per capire che Gallinari non poteva essere il quarto uomo di via montaccini perché Gallinari era appena fuggito dal caccio di Treviso era un latitante noto la polizia non poteva farsi vedere ai condomini o agli inquilini lì a montaccini di zappettare il giardinetto o intrattenere i rapporti corviali con i condomini che si incontrano per caso per le scale o davanti alla porta mentre la si sta chiudendo o si sta entrando no Gallinari era lì a po' bene Gallinari era lui che aveva ucciso morto non c'è niente altro da cercare allora dicevo a chi ha risapevo a tutta la storia a ritenere che egli sapesse ma poi egli stesso ci dice quando io gli ho fatto la domanda quale era l'armamento di via montaccini a parte le armi in dotazione personale arriva un borsone carico di mitra e fa una descrizione è un fucile sono le armi che poi vengono riscontrate rileggetevi la perizia o gli atti di via fan sono le armi che vanno in via fan le armi che vanno a sparare in via fan le armi che vengono utilizzate da quelli che dovevano sequestrare un noto esponente della dc la dovevano sequestrare a mano armata con mitra in pugno e con armi micidiali e il noto esponente della dc è uno che passeggiava per conto suo oppure usciva di casa da solo oppure era un uomo noto grande esponente per cui per caso scortato e da agenti di polizia per cui si doveva anche durante il sequestro eventualmente caggiare un conflitto a fuoco con gli agenti che certamente non sarebbero stati lì a guardare mentre veniva sequestrato il noto esponente della dc e tanto è vero tanto è vero che c'è questo questo borsone pieno di armi che devono essere utilizzati in diafani e prendono la via di diafani ma carino alzagnere crede che vanno a sequestrare pacificamente una persona innanzitutto le dichiarazioni contrastano con quella della braghetta oltre naturalmente con tutte le alte dichiarazioni che ci sono agli altri io vi ho ricordato quello di Edo Raimondo quello che ha fatto Edo Raimondo bisognava addirittura si era scogittato la intercettazione attraverso questi walk-talk che lui lo ha raccontato fatta da Moretti da Morucci da lui poi la cosa dice lui è stata abbandonata perché bisognava intercettare la macchina di Moro bisognava essere certi dell'itinerario che Moro non ha la guida dalla sua autovettura naturalmente ma la guida era una vettura condotta da carabinieri e da una scorta che lo seguiva perché c'erano stati pedinamenti c'erano stati dei sopralluoghi tutti sapevano che Moro era scortato fin da quando cominciarono i primi appostamenti nella chiesa di Santa Chiara fino a quando cominciarono i primi appostamenti nella chiesa di Santa Chiara che sono antecedenti al reperimento dell'appartamento di Via Montalcini Via Montalcini Poi questo tipo di intercettazione non viene più fatto noi avevamo sempre sospettato e continuiamo a sospettare che questo compito dovesse essere svolto o assolto da questa moto che doveva precedere la macchina di Moro arrivare prima in Via Fani naturalmente segnalare che Moro effettivamente stava arrivando in quella via Fani che poteva seguire un'altra via perché varie erano le vie che poteva seguire la scorta abbiamo sentito attraverso l'organizzazione di Morito noi eravamo sicuri ormai che il 16 questo naturalmente si è pensato a tante cose come che i brigadisti fossero certi sicuri che quella mattina del 16 marzo sarebbe passato proprio in via fa perché io ho fatto anche la domanda a Macchina questo è stato l'unico tentativo ho fatto anche a tanti brigadisti ma si sarebbe potuto ripetere questo tentativo se non avesse avuto successo cioè non si possono mandare quattro persone vestite da Vieri in Via Fani il giorno 16 nazio e aspettare se per caso Moro passa di lì non si può bugare la gomma al povero spiriticchio che sta lì col suo camioncino ogni giorno la sera precedente al 16 marzo in modo che il 16 marzo lui non vada più lì e poi dice ma Moro non è passato adesso spiriticchio ritorna sul luogo e noi ripugiamo un'altra volta la gomma senza restare sospetti non per il modo in cui è stata organizzata l'operazione era certi che Moro passasse in quella via e quindi non un sequestro di un noto esponente che si può fare il 16 marzo che si può fare anche il 17 che si può fare anche il 20 di marzo o alla fine del mese anche qui apriamo una parentesi per dire i fatti da accertare e i fatti da non dimenticare anche per anni è stato detto prima che in via Fani erano soltanto insette lo ha dichiarato anche Borucci alla corte d'assise di appello poi improvvisamente esce fuori quel memoriale dopo che si era presentato al giudice struttore questo è il processo del Moro Quadre in cui aveva improvvisamente e inaspettatamente dichiarato che in via Fani oltre ai seti di cui aveva sempre parlato c'erano anche lo diato nel casinio allora domande su domande interrogatori è tutta la verità c'è qualcun altro in via Fani no soltanto noi nove ma non c'è proprio nessun altro no soltanto interrogatori a fiù domande che hanno avuto sempre la risposta poi improvvisamente un giorno apro panorama e leggo che Morucci ha lasciato un'intervista in cui dice che in via Fani c'era anche una donna la Rida al Granato la moglie di Casimiri che aveva il compito di fare la staffetta perché? perché sapeva che Moretti stava parlando in caccia delle due giornaliste la Rossana Rossanta e la Carla Mosca e aveva fatto il nome della Rida al Granato poi ancora non lo sapevano perché questi erano colloqui che tenevamo in noi abbiamo saputo dopo che Moretti era stato autorizzato dal Ministero di Casa e Giustizia ad avere colloqui con le due giornaliste e poi abbiamo accurato leggendo le trascrizioni di quelle bobine che Moretti ha detto sì c'era anche la Rida al Granato questa donna che stava lì con un mazzo di fiori che aveva questo compito di restare china sulla mia macchina che io avevo parcheggiato al lato di via Fani poi al momento in cui vedeva apparire la macchina di Moretti doveva far finta di attraversare la strada con una certa lentezza in modo da far rallentare la macchina di Moretti e permettere a me di mettermi sulla strada davanti proprio quella macchina di Moretti per poi creare quel tamponamento a voi tutti no questa era la versione che voi troverete è la versione che voi troverete nelle cassette quindi per la prima volta noi apprendevamo che per anni ci avevano mentito o avevano nascolto la verità dicendo che non c'era altra persona e allora io perché devo credere a qualcuno che mi dice che adesso che non c'era la modonda da quanto ci sono quattro testimoni che noi abbiamo sentito e invece ci dicono che questa modonda l'hanno vista e perché non dovevo sospettare che a bordo della modonda ci fosse entro e perché non dovevo sospettare che a bordo della modonda ci fosse Maccari perché non dovevo continuare a indagare perché non devo credere al mio omonimo Marini che dice questi mi hanno sparato addosso fin dall'inizio lo ha detto alla polizia ho dovuto abbandonare il mio motorino è stato portato in questura a poche ore di distanza a due ore di distanza del cilio di Apani e ha cominciato a dire mi hanno sparato addosso a due con la moto Honda ma io ho stato lì inchiodato all'incrocio tra via Apani e via Stresa inepedito e questi mi hanno sparato addosso lo dice la gente di polizia che noi abbiamo sentito quello che non aveva avuto il coraggio poi per fortuna riacquistato di dichiarare subito che era presente in via Apani che aveva questa pistola che ha cercato di armeggiare poi dice che non ce l'ha fatta si è incagliata per cui addirittura era nascosta sotto sotto il sedile che stava lì che ha assistito alla scena che ha visto la moto Honda ce lo dice il medico il giovane medico che sta andando all'ospedale a lavorare e che vede la moto Honda prima dell'incidio davanti proprio al bario Lidetto con accanto due persone vestite dagli questo perché dico perché per valutare se tutto è stato detto anche da Maccari e se tutto quello che è stato detto è la verità perché noi dobbiamo adesso per valutare l'attendibilità estrinseca o sotto il proprio destino a tenere conto di tutte queste altre risultanze che esistono nel processo allora noi dobbiamo credere a Maccari e non sapeva che quel giorno bisognava sequestrare morti che non sapeva che il piano prevedeva l'annientamento della scorta e degli uomini di scorta di Moro non sapeva nulla di Via Fani e allora andiamo a vedere fra le carte se qualcuno dice qualcosa di diverso che lui non è uscito mai da Via Fani che ha aspettato Moro in Via Fani e allora troviamo oltre a tante altre dichiarazioni la dichiarazione della preghetta è la dichiarazione della preghetta che è della donna che ha convissuto con Maccari per tutti quei mesi poi per i famosi 55 giorni la preghetta finalmente dopo anni di silenzio e di rifiuto si è aperta in un determinato momento storico e davanti a tu vivo mistero voi leggete le dichiarazioni perché sono agli atti perché qui è stato ricordato di rispondere per cui valgono quegli interrogatori dice voglio dire tre cose soltanto oggi e non voglio aggiungere altro voglio dire che Moro è venuto qui a Via Montaccini fin dal primo giorno in cui è stato rapito e cioè il 16 marzo 1978 la seconda cosa che voglio dire è che Moro è stato sempre qui tenuto sequestrato per tutti i 55 giorni e la terza cosa che voglio dire è che Moro è stato ucciso qui nel garage di Via Montaccini queste sono le prime dichiarazioni della preghetta perché ha fatto quelle dichiarazioni quattro c'era un determinato clima si parlava di determinate situazioni e così pure la Bazzarani improvvisamente operazioni mai tutte e due sono venute a moro tra e quattro del processo addirittura la preghetta è andata anche in televisione a fare un'intervista ebbene che cosa ha detto perché ricordo questa colabra che signor presidente non soltanto al pubblico mistero ma in un pubblico dibattimento e in una pubblica televisione ha detto che lei quel giorno del 16 marzo era l'unica che era rimasta a casa lei ha detto che quel giorno del 16 marzo era molto nervosa ansiosa per quello che era succedendo perché sapeva benissimo cosa bisognava fare sapeva bene che bisognava andare a sequestrare morire ad annientare cinque uomini di scorta poi ha dichiarato allo stesso giornalista che l'ho intervistata voi avete agli atti la descrizione dell'intervista e dice io mi sono resa conto che la situazione comunque si era verificata non era ancora certa che avevamo avuto successo quando ho cominciato a sentire il rumore degli elicotteri sulla sulla casa sono scesa in una strada ancora ansiosa in attesa in attesa di chi di chi secondo il piano prestabilito doveva portare Moro in una cassa di lei a bordo di quale macchina della Amio 8 della Bragher e infatti la Bragher dice che Maccari andò con la sua macchina l'anni 8 a prelevare Moro in quella garage della stanza che lei stessa aveva trovato che lei stessa aveva indicato perché era alquanto sicuro e allora andiamo a ricercare un conforto a queste dichiarazioni della Bragher nelle carte processuali vediamo chi altro ne parla ne parla lo stesso Moretti ne abbiamo contestato anche le dichiarazioni a Maccari Moretti dice che l'anni 8 era andato a prendere la cassa di Moro soltanto che Moretti e quale naturalmente già lo abbiamo spiegato come le verità vengono fuori sempre a secondi momenti e a secondi le opportunità o gli opportunismi naturalmente non può dire che ci stava Maccari ma intanto meno può dire che c'è il quinto uomo ci dice che stava a Bragher contro la dichiarazione della Bragher che dice che lei quel giorno è rimasta a casa allora la Bragher che era andata a prendere dice dice Moretti è venuta la Bragher ora se noi dobbiamo valutare l'attendibilità anche di queste due persone di queste due dichiarazioni anche sotto il profilo sempre dell'attendibilità intrinseca e dell'attività estrinseca e voi potete dare più rilievo o credibilità di questione di un Moretti o della Bragher perché interessa aveva la Bragher a dire che il quarto uomo Luigi Artobelli era mandato la Bragher la Bragher la Bragher a un certo momento quando si apre davanti ai giudici e soprattutto davanti ai giudici della Corte di Sala oppure in un pubblico dibattito alla televisione in un'intervista alla televisione parla di questo quarto uomo di Luigi Artobelli e sa la Bragher che della Luigi Artobelli viene identificato già in Maccà forse qui sta la chiave di quel silenzio che è stato rimarcato a Franco Ioni qui non ha più il coraggio di dire le cose che è venuto a dire nel dibattimento del Moro Quadre ma chissà perché anche se sa signor Presidente perché lo sa perché lo sa che nel a suo silenzio succede il fatto che il pubblico ministero produce interrogatori quindi la Bragher per me per una serie di considerazioni ha molta più attendibilità di quando non abbiamo non abbiamo retto dice che la Bragher ma poi anche dice da parte di Morucci mi sembra in un passo nel memorialio che Gallinari addirittura si era andato in alto quindi che la macchina era condotta poi da da Moretti e dall'altro uomo ma perché andato via ma non a bordo della a bordo della della AMI-8 quindi tutte le risultanze o tutte le considerazioni e argomentazioni logiche inducono a ritenere signor Presidente molto attendibile la dichiarazione della della Bragher rispetto a quella del Moretti che peraltro non parla dei giudici parla delle giornaliste ma scondendo naturalmente come si dice fin dall'inizio dell'intervista attenzione perché io non voglio fare nomi o non voglio indicare situazioni che possano implicare responsabilità di atti miei compagni a meno che questi non siano stati già condannati seguo un po' la stessa tecnica di Morucci già condannati all'ergastano o addirittura assorti signor Presidente proprio in quest'aula assorti come rida al Granati assorta dal sequestro e dall'omicidio dell'onorevole no perché c'è stato chi ha mentito e c'è stato chi ha nascosto che la rida al Granati era invece in via Pani quel giorno del 16 marzo 1978 rida al Granati di cui si sono persi le tracce mentre restano ancora non so fino a quante quelle del suo del suo ex marito Casimirri in Nicaragua di cui parleremo di qui a poco e allora quello di cui vi parlava io di questi impincimenti questi nascondimenti questo fare il nascondiglio il dire il non dire ma leggetevi l'interrogatorio di Morucci ci ha voluto tutta la nostra pazienza e chi legge quell'interrogatorio fatto quel giorno una cosa si rende conto si rende conto di quello che è stato come chi legge l'interrogatorio fatto dal presidente durante il processo Moro Terra e alla la trascrizione di quegli interrogatori tanto è vero che i giudici sono arrivati a motivare in sentenza che quando Morucci non include non esclude vuol dire che dice questa cosa che quando Morucci dice che non intende rispondere vuol dire ne fanno un'analisi biologica logica per interpretare i non include e non escludo i non intendo rispondere male si però no viva la faccia della farana bisogna fare chiarezza è giunto il momento di fare chiarezza è giunto il momento in cui ognuno deve assumersi le proprie responsabilità ebbene io vi dico che c'è il quarto uomo di via Montalcini Luigi Etobelli e Germano Maccaio allora io mi sarei aspettato anche da Maccaio è giunto il momento di fare chiarezza è giunto il momento in cui ognuno si assume le proprie responsabilità bene io sapevo che quel giorno bisognava sequestrare Morucci io sapevo perché avevo visto le armi e sapevo il piano dei brigadisti perché sapevo come lei dice signor Presidente la pratica omicidiaria delle brigade rosse che non andavano a scampagnata ma andavano con mito in mano per ragnentare una scorta fatta di uomini in carne rossa di pari di famiglia senza nessuna necessità perché questo vorrebbe dire Maccaio perché dobbiamo uccidere cinque agenti per sequestrare Moro che va a passeggiare ogni mattina con il nipotino perché dobbiamo uccidere cinque agenti di polizia per fare un sequestro di persone che possiamo fare in tanti altri modi se è vero che vogliamo fare soltanto un sequestro di persone perché poi dirà noi dobbiamo uccidere Moro questi sono i perché i giganteschi interrogativi che ancora restano immutabili fissili da quando non sarà fatta piena luce su questa tragica vicenda perché Moro perché quel 16 mazzo perché l'uccisione di quei cinque agenti perché l'uccisione di Moro in quel garage di via Montalcino entrò a un portabagaglie lo spero che qualcuno un giorno saprà dare delle risposte o distacenti e veritiere a queste domande signor Presidente noi fino adesso ce le abbiamo messa tutta e fino a quando resteremo in questo ufficio noi faremo tutto quello che sarà necessario fare per dare anche a queste domande le risposte di verità adesso dobbiamo dire che Maccani non ha detto la verità non ha detto la verità quando ha affermato di non sapere che quel giorno bisognava sequestrare Aldo Moro quando ha affermato che quel giorno non sapeva che bisognava annientare gli uomini nella sua scorta quando ha affermato che quel giorno egli non si è mosso da via Montalcini quando gli ha affermato che egli non ha sparato su un moro e per il momento non ci interessano le cose che ha tacciuto invece signor Presidente perché per il momento noi dobbiamo giudicare i fatti che ci sono adebitati ma siamo sempre ponti disponibili ad accettare in qualsiasi momento reazioni di verità dichiarazioni di chiarezza e di completezza ora arriva a via Montalcini signor Presidente è una cassa di legno che lo stesso Maccari ha preparato il palegname non vogliamo sapere chi l'ha andato a prendere come l'ha fatto la cosa è certa che il compito che gli era stato assegnato signor Presidente non era esclusivamente quello da fare il marito della Braghetti mi sembra chiaro mi sembra chiaro il compito che gli è stato affidato non è soltanto quello di apparire nel giardinetto di salutare la condomina di andare di venire come l'ingegnere a Torbelli per fare il compagno al marito della Braghetti io ho contestato anche quelle dichiarazioni che ci provengono da Casimir e ha attraverso la voce dei due funzionari del SISL ha parlato in questo processo e beh dice ma questo era uno che si interessava bene della prigione è uno che voleva il punicolo che voleva il consolidamento delle belle della voleva una prigione sicura adesso o noi diciamo che quella persona di cui parla Casimir o meglio di cui parla nel Dio funzionare sì è un'altra persona non è Germano di cui hanno parlato o si parla attraverso la stimonianza dei due di Parolise e di Fabri oppure dobbiamo dire che Germano Maccari faceva cose ben diverse aveva un ruolo un peso ben diverso anche perché poi noi troviamo un riscontro signor Presidente guarda caso proprio nelle dichiarazioni di Morucci che io stesso ho contestato nel corso dell'interrogatorio di Maccari perché Morucci ha detto di aver appeso da Gallinari giustifica il fatto che poi a Maccari non gli abbiano dato un posto di rilievo nella 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 come si chiama nella brigata di Torre di Torre Spaccata perché aveva posto problemi aveva posto problemi durante l'apprestamento della base di via Montarci questo lo dice Morucci perché l'ho preso da Gallinari naturalmente perché Gallinari ci riferì questo ci riferì questo ma poi gli stessi lo ha messo ha contribuito a erigere il muro ha contribuito a mantenere no? nei 55 giorni lo abbiamo preso anche attraverso le sue domande signor Presidente l'andamento della casa ha costruito la cassa sulla quale Moro deve essere portata l'ha andata a cercare l'ha andata a mettere l'ha andata a prendere molto probabilmente è stato lui che è andato a portare questa cassa su quel furgone di cui è sparita ogni traccia che questo è un altro misterio di questo processo tutte le macchine sono state ritrovate tutte le macchine che hanno partecipato alla strage di Via Fane sono state ritrovate eccetto questo maledetto furgone a bordo del quale ha viaggiato la cassa con dentro Moro sequestrato il furgone il furgone che noi perdiamo secondo le dichiarazioni che abbiamo acquisito agli atti e anche secondo il memoriale di Morucci che è stato introdotto sotto il garage di Via Tasta che fine abbia fatto questo furgone poi non si sa più quando c'è il famoso da sbordo dal furgone all'ami 8 qual'era questa macchina di cui parla Moretti che precedeva questo furgone qual'è questa macchina signor Presidente rileggete la descrizione che Moretti dice alla Calla Mosca sai è vero che noi dovevamo poi portare Moro fare il da sbordo sul furgone sulla cassa però sai come succedono le cose può darsi che questo furgone ha qualche cosa che non va e no per cui noi dobbiamo avere a disposizione un'altra macchina che ci seguiva e poi dopo che siamo arrivati a Via Pidossi abbiamo fatto messo Moro nella cassa questa macchina invece ci precedeva e qual'è questa macchina? vabbè cioè nel memoriale di Morucci che è stato introdotto e che ricostruisce non ne parla lui ma ne parla Moretti da noi quante cose dobbiamo accertare ancora signor Presidente quante cose quante persone sono coinvolte ancora in questa in questa vicenda dico brigadisti e non per non parlare di altri brigadisti poteva pensare che Maccari fosse stato coinvolto in questa vicenda addirittura fosse stato il carceriere di Moro libri si sono scritti su questo quarto uomo cioè il senatore Beramini che ancora continua a sostenere che Maccari non può essere quattro uomini via Montalcini cosa dobbiamo scoprire ancora questa macchina di ghiera questa moto onda com'è che stava lì questo furgone dove è andato a finire Maccari ci ha dato anche una spiegazione Presidente della morte di Moro in quel bagagliaio perché ci siamo sempre detti ma perché perché rischiare che la donna che sta parlando con la Braghetti a un certo momento ficchi addirittura la testa sotto sotto la bascula per andare a vedere se la Braghetti per caso ha cambiato macchina oppure no Presidente questa signora sapeva che la Braghetti ha un'ame 8 questa signora è quella che vede la Renault rosso questa signora è quella che invece di andare alla polizia o ai carabinieri o alla magistratura o al magistrato quando poi la sera appare la Renault rossa all'interno alla quale viene trovato il corpo di Moro va a parlare invece con un suo amico avvocato a quale da un bigliettino al suo amico onorevole e a quale lo porta al capo della polizia e così la Renault rossa noi lo veniamo a prendere questa signora dopo addirittura anni quando se questa signora si fosse presentata a un qualsiasi posto di polizia dice guardate che io questa mattina alle 6 e mezza mentre andavo a scuola ho notato in un garage di via Montalcini quella Renault rossa almeno mi sembra che sia lei cioè non ho notato quella macchina che notavo sempre l'ami 8 ho notato una macchina diversa ma che per caso questi brigadisti stando proprio in via Montalcini sarebbero stati coperti Alcari ci ha detto che sono ritornati in via Montalcini sono fermati a smantellare la base non parliamo di quello che è successo sul pevinamento della Braghetti però a morti pari ma insomma ma per ritornare a quello che ci interessa hanno rischiato che questa persona micasse la destra fanno vedere anche per una curiosità proprio delle donne fanno vedere che tipo di macchina ti sei fatta nuova e trovavano Maccari e Moretti con la cesta con Moro magari Moro deve dare il segnale Moro Pacifico certo ma come fai a essere sicuro che è una persona la più pacifica del mondo la quale capisce signor Presidente capisce che è giunta la sua ora e la speranza si dice è l'ultima a morire però lei ha fatto la domanda Presidente non so se ora a parte ci dira a un certo momento questi vanno a viso scoperto ma insomma si fanno vedere da una persona che stanno liberando si fanno rivedere da una persona che hanno venuto sequestrate per 55 giorni e con la quale avevano sempre parlato o preso contatti con i passamontagni quel giorno invece decidono usare i passamontagni appunto per non creare durante il trasporto di Moro dal primo piano al garage per non creare problemi e non si rendono con che Moro è una persona intelligente e lo hanno detto loro non capisca in quel momento che è giunta ormai la sua oh questi mi vanno adesso mi ammazzano non è possibile che stanno a viso scoperto e allora in un sussurto signor Presidente in un sussurto di vita non può mandare un grido un ulla un richiamo un qualcosa un aiuto che viene da fuori dalla gola spontaneo sempre ci siamo chiesti questo ma nessuno ce l'ha data ancora una risposta ma perché non l'hanno ammazzato nella cella insonorizzata ma perché non l'hanno ammazzato nel salotto anche perché trasportare un catare secondo me è meno pericoloso che trasportare un uomo non incerottato vivo che può da un momento all'altro è stato spiegato ma caro temevamo temevamo che sgorgasse il sangue e che poi la cesta la cesta potesse crearci dei problemi e voi andate a prendere una cesta per trasportare un catare o per trasportare comunque vivo non più la cassa la cesta ma quando è venuta fuori questa cesta questa cesta l'abbiamo appreso per la prima volta dalla Braghetti quando noi abbiamo fatto seguistare alcune cesse alcune casse per acquisizione è venuta fuori improvvisamente questa cesta una cesta di cui non si sa niente naturalmente dove stava comprare come stava comprare una cesta una cesta di dimensione che viene usata per trasportare meno leggera della cassa meno incomprande della cassa ma certamente è più pericolosa sotto tanti aspetti e allora signor presidente quando noi ci venivamo a questi l'hanno ammazzato in via Montalcini nel bagagliaio di quella macchina via Montalcini la verità di Maccari la verità della Braghetti la verità di Morucci la verità della Paranta la verità di Moretti è la verità o è quella verità simile a quella quando ci dicevano non c'è più altro uomo in via Fani se non quei sette che abbiamo già indicato non c'è nessuna donna in via Fani se non la Barbara Barzerani non c'è nessun quarto uomo in via Montalcini ma qual è la verità presidente noi stiamo inseguendo la verità veramente come l'aggressiva insegue il sol anni perché non vogliamo dimenticare perché vogliamo conoscere presidente vogliamo sapere allora l'ultima verità è questa oggi la verità è un Maccari che fa da copertura a Moretti presidente possiamo sospendere cinque minuti che prenda un po' d'acqua grazie grazie a tutti grazie a tutti Il pubblico ministero può riprendere. Grazie, Presidente. Quindi, Presidente, per valutare poi l'attendibilità delle ultime dichiarazioni che riguardano il momento ultimo, il momento tragico della uccisione di Moro, e noi dobbiamo, almeno in questo secondo aspetto dell'attendibilità estrinseca che stiamo esaminando, valutare quelle che sono le altre risultanze processuali, sempre tenendo presente però il ruolo che Maccari dice di avere svolto nell'ambito di via Montalcini. E allora che cosa noi avevamo appreso, signor Presidente, prima delle dichiarazioni di Maccari? E Moretti era l'unico brigadista che aveva interrogato Moro. E Gallinari accudiva in qualche modo alla prigione di Moro che la Braghetti andava e veniva dalla prigione. Aveva ormai svolto il suo ruolo e continuava a svolgere normalmente come quella di una qualsiasi cittadina comune che pur avendo in casa sequestrato, tenuto in ostaggio Moro durante quei infernali 55 giorni, quando si era scatenato il finimondo e la polizia faceva tentativi su tutti i fronti per rintracciare Moro, la prigione di Moro, la Braghetti usciva la mattina, andava al lavoro, andava in questura, addirittura a timbrare i passaporti che gli davano nella sua agenzia, quindi svolgeva una vita normale. Avevamo appreso che Gallinari era l'unico che non si era spostato né si poteva spostare da via Montalcini, perché, l'abbiamo ricordato, era appena evaso dal carcere di Gioviso e quindi non poteva farsi vedere. Poretti avevamo appreso che durante il periodo dell'operazione Moro abitava in via Gradoli, insieme con la Barbara Bazzarani. avevamo appreso che la base di via Gradoli era caduta in quel modo che abbiamo ricordato durante gli interrogatori il 18 aprile. e avevamo appreso che molto probabilmente, anche se non avevamo la certezza, che Moretti era andato ad abitare poi in via Montalcini, durante il restante periodo che va dal 18 aprile fino al 9 maggio del 1978. e avevamo appreso, come abbiamo già detto, che poi a sparare su Moro era stato Gallinari. Quando abbiamo sentito poi la Braghetti, ad anni di distanza, è l'ambito di questo processo, ma nel periodo in cui si svolgeva il processo del Moro Quater, perché ripeto ancora una volta per valorizzare le dichiarazioni della Braghetti, che queste dichiarazioni sono state rese anche in un pubblico dibattimento nel contraddittorio delle parti, e quindi, durante il processo Moro Quater, di come si era svolta la vita a via Montalcini durante quei 55 giorni. avevamo apprezzato che la Braghetti non aveva mai visto Moro, o comunque che non si era mai presentata al suo cospetto, lo aveva sbirciato attraverso quell'occhiolino che era in quella porta, in quella struttura che loro avevano approntato in via Montalcini. e l'unico che entrava, poi nella cellula insonorizzata, in assenza di Moretti, era Gallinari per le necessità di Moro. avevamo appreso e il primo comunicato era stato fatto in via Montalcini, e ce l'aveva confermato poi, ce l'ha confermato successivamente Moretti, attraverso le dichiarazioni rese, l'intervista, chiamiamola così, alla Rossena Rossanda e alla Calla Mosca. mentre tutti gli altri comunicati erano stati iscritti nel comitato esecutivo che si trovava a Firenze prima, a Rapallo dopo, dopo il 18 aprile. Ma non abbiamo mai saputo qual era la base di Firenze nella base di Rapallo nella quale o nelle quali si riunivano quelli del comitato esecutivo per scrivere i famosi comunicati. Questo è un altro punto da accertare nel processo. Punto la cura e l'eranza naturalmente non può sfuggire a voi perché in quelle basi di via Firenze, a Firenze o a Rapallo, si decideva il destino di Mori. Destino che in via Montalcini sembra, voglio usare questa parola, che fosse esclusivamente nelle mani di Moreno. Presidente, noi abbiamo fatto queste domande a Maccari perché sono domande che ci venivano, ci ritornavano ogni volta che affrontavamo un nuovo processo Moro, ogni volta che leggiavamo gli atti di Moro. Vabbè, la Braghetti doveva fare la donna comune, doveva andare e venire da via Montalcini, andava a lavorare. Tallinari stava lì, fissa, non si faceva vedere, ma Moretti andava e veniva da via Montalcini come che va e si viene da una casa normale. Allora io ho chiesto a Maccari, ma questo a Moretti quando si presentava? Ogni qual volta si presentava, come veniva? Aveva le cavi, bussava la porta, si camuffava, metteva i baffi, si metteva la porta, ma insomma, 55 giorni, preceduti da altri giorni in cui Moretti era andato a dare una mano, si dice, lo dice lui stesso, nelle dichiarazioni alla Rossana Rossandra e alla Calla Mosca, che aveva dato una mano per apprestare la base. Abbiamo fatto i muratori, si dice lì, in quelle registrazioni, signor Presidente, io e Galinari, pace naturalmente di Maccari, poi Maccari dice, io pure ho dato una mano e ha spiegato a lei, signor Presidente, come erano stati comprati questi, questi tre mezzi o questi gessi o comunque questo materiale che era servito per costruire questa, ha spiegato come ha insonorizzato le pareti, come ha insonorizzato il soffitto, come ha insonorizzato il pavimento. Quindi vedete che il ruolo di Maccari, ancora una volta, attraverso le sue dichiarazioni, non è quello semplice del marito della Braghetti. Acccari dà un contributo veramente e davanti all'apprestamento di questa base. E questa cosa mi fa ridonnare alla mente quello che ha detto Casimirri attraverso la bocca dei due funzionali estilte che abbiamo richiamato su come si comportava quel germano che era in via Montacini, quello che faceva. Abbiamo appreso che sono state messe le interiate alla finestra, che è stata rafforzata la porta e così tante altre cose per quanto riguarda la base. Ma poi abbiamo appreso una cosa veramente che ha il sapore della novità o comunque che è nuova rispetto a tutte le altre risultanze processuali. Che è vero che Moro veniva interrogato soltanto da Moretti ci ha detto Maccari, però considerato che in quella in quella cella di un metro e quaranta per ottanta dove c'è appena un lettino e appena un water dove non c'era altra possibilità di far passare l'aria se non attraverso un tubo che non ho capito bene come dove stava e quanta aria poteva far passare che quando si svolgeva arrivava a Moretti la porta veniva tenuta aperta. Questa è una novità assoluta. Io non l'ho mai più non l'ho azebbene l'abbia ricercata nelle carte processuali precedenti naturalmente degli azioni del Maccari questo fatto della porta che veniva lasciata aperta durante gli interrogatori di Moro. e allora anche qui è sotto spontanea la domanda a Maccari ma scusi lei almeno quelle volte in cui stava in via Montalcini almeno quelle volte in cui sapeva che Moretti si trovava al di là di questa parete o di questa cella la cui porta veniva lasciata aperta vista la rispettezza dei locali visto che c'era un salotto e c'era uno studio e vista la rilevanza di tutto quello che si stava scrivendo si stava dicendo sulla stampa o di quello che si comunicava attraverso i comunicati delle Brigade Rosse ma non ha sentito la possibilità di sentire qualcosa di come si svolgeva questo interrogatorio sempre di no almeno così dice Maccari ma quale persona ma quale brigadista che ha svolto il ruolo che finora abbiamo indicato che ha svolto Maccari e viene scelto di qui e ci arriveremo fra poco che viene scelto da Morucci e dalla Faranda e da Seghetti per svolgere questo ruolo badate bene perché sono loro che indicano a Moretti Maccari sono loro che sono gli amici di Maccari sono loro che fanno parte della cosiddetta ala movimentista delle brigate rosse sono loro che sono stati in un'organizzazione terroristica precedente a quella delle brigate rosse denominata LAP o FAC sono loro che conoscono bene Maccari ebbene noi abbiamo la risposta sorprendente lasciatemelo dire che non c'è stata mai curiosità da parte sua di sapere come si svolgivano gli interrogatori o comunque di sentire di origliare di vedere soprattutto i primi interrogatori che credo siano stati abbastanza drammatici soprattutto quei primi interrogatori signor Presidente che venivano registrati in cui c'era domanda e risposta perché poi successivamente si dice che Moro ha cominciato a scrivere ebbene noi non sappiamo su questo niente o quasi niente tutto viene rapportato a Moretti Moretti entrava Moretti interrogava Moretti faceva le domande a Moretti non venivano fatte domande quando usciva Moretti non ci faceva nemmeno leggere le cose che Moro scriveva Moretti era quello che portava fuori i documenti di Moro Moretti era quello che portava fuori le lettere di Moro a chi le consegnava che cosa avevamo appreso prima che parlasse Maccari che queste lettere o questi comunicati sono stati puntualmente consegnati a Morucci e Faranda che erano i cosiddetti postini di quei 55 giorni ebbene io devo credere che Maccari messo in quel posto da Morucci e dalla Faranda ho indicato dalla Morucci e dalla Faranda e da Seghetti che Maccari il 16 marzo del 1978 che sente il bisogno di allontanarsi da Via Montalcini per andare all'università che non frequenta non mi sembra che sia andato a fare una lezione o ad assistire a un corso che già frequentava e quindi doveva fare apparire che non c'era soluzione di continuità io devo credere che Maccari che va e che viene da Via Montalcini come fa la Brachetti non ha mai incontrato Morucci e Faranda durante quei 55 giorni dopo tutto quello che stava succedendo dopo che si era al partito della fermezza contrapporto a un altro partito che è Maccari a sposare cioè quella della liberazione di Moro e noi questo l'abbiamo appeso attraverso il processo cosiddetto metropoli i contatti di Morucci con pace e con altri esponenti del partito socialista e Maccari che si trova sulla stessa linea di Morucci e Faranda per quanto riguarda liberazione sì o liberazione no di Moro uccisione sì uccisione no di Moro che va e che viene da Via Montalcini e che in qualche modo non sa quello che pensano Morucci e Faranda di tutto quello che sta accadendo io sono sicuro che Maccari è invece il rappresentante dell'ala movimentista delle brigade rosse e quindi di Morucci di Faranda all'interno della base di Via Montalcini è la logica delle cose è la logica delle carte processuali è la logica degli avvenimenti è la logica dei fatti che lo dicono e che impongono questo convincimento quante lettere sono state spedite d'amore quante non ne sono arrivate a destinazione quante non ne sono arrivate a destinazione Maccari non sa niente Maccari dice di non sapere niente Maccari che pure deve leggere i comunicati che pure si informa attraverso la lettura dei giornali di quello che sta succedendo Maccari che ci racconta quello che l'ADC sta approntando proprio negli ultimi giorni quello che dice di avere appreso da Moretti che quella riunione non avrebbe sortito nessuna per me Maccari recepisce soltanto secondo la sua versione no non è possibile questo è ritagliarsi addosso quella responsabilità limitata di cui parlavo all'inizio della mia requisitore ritagliarsi un ruolo o un profilo comprensibile da parte di un imputato per carità ma di cui noi dobbiamo dobbiamo valutare anche criticamente un profilo defilato un profilo che fa pensare appunto a quelli di cui parlavo prima che non può essere il quarto uomo di via Montalcino e non può essere il quarto uomo di via Montalcino ma come si fa come si fa a non chiedere a Moretti a Gallinari con i quali si sta lì per 55 giorni anche nei giorni mesi precedenti a non chiedere ma chi dobbiamo sequestrare ma chi è questo noto esponente dell'ATC a che poi che cosa faremo che cosa chiederemo quale sarà poi l'esito di questo sequestro quanto tempo deve durare un mese due mesi tre mesi quattro mesi e alla fine che cosa faremo lo libereremo lo uccideremo abbiamo affrontato questa base di via Montalcini ma che cosa faremo nel caso in cui verrà scoperta uccideremo l'ostaggio usciremo dall'altra parte attraverso un cunicolo sotterraneo per esempio il cunicolo di cui parla Casimilli che non è stato affrontato nella base di via Montalcini e cosa succederà se qualcuno dei condomini incuriosito verrà a scoprire qualche cosa e chiamerà la polizia e noi saremo accerchiati come ci comporteremo come utilizzeremo queste armi che abbiamo dovremmo fuggire dovremmo scappare lasciando l'ostaggio insomma ma queste cose in un piano come questo si predispongono fin dall'inizio o comunque se ne parla durante i 55 giorni del sequestro tanto più che si è continuamente a contatto ma come può fare un sequestro di persona a un carceriere non sapere quello che vuol fare l'altro carceriere ma come fa a fidarsi che affidabilità che credibilità mi dà uno che sta con me in una cella o in una grotta in una cosa che siamo carcerieri in due o in tre o in quattro e io non so quello che deve fare l'altro o quello che farà l'altro nel caso in cui succederà qualcosa nel caso in cui come ripeto interverrà la polizia ma come si fa a credere a tutto ciò e i sequesti di persona viva Dio ne abbiamo ne abbiamo fatti se ne fanno i processi lo dicono ma come può il carceriere può non sapere quello che fa che fa colui il telefonista o il telefonista può non sapere quello che fa il carceriere ma il carceriere numero uno non può non sapere quello che fa il carceriere numero due o che fa il carceriere numero tre o quello che farà il carceriere numero quattro La logica. La logica. Abbiamo fatto il referendum, abbiamo fatto la consultazione generale, Moro deve essere ucciso, ma chi lo uccide? C'è a Via Chiavrera, nell'appartamento di Morucci e Faranda, da parte di Morucci, Faranda, Gallinari, Moretti, Balzerani, Segretti che si riuniscono. No, lo faccio io, diciamo. A chi lo sappiamo questo per la prima volta? Lo sappiamo di Adriano Faranda. Sì, Adriano Faranda. Non parla, non fa dichiarazioni di relato. Adriano Faranda, quando dice che Maccare è entrato nelle Brigade Rosse o è stato scelto per la base di via Montagina, non fa dichiarazioni di relato. Lo dice perché fa parte della direzione della Roma Romana, che sceglie, che decide. Quando la Faranda dice che poi si è parlato di uccisione di Moro, quando la Faranda dice di come doveva venire il tasbordo, lo dice perché è stato deciso in quella riunione. Poi, la Faranda dice di aver appreso da altri, poi come è avvenuta l'uccisione. Questo è l'unico punto delle dichiarazioni della Faranda che possono essere qualificate dichiarazioni di relato. Quelle delle ultime, ultimi minuti di Moro. E la Faranda ci dice addirittura, e qui la sofferenza anche, di essere stata prescetta da Moretti per il trasbordo del cadavere di Moro. Moretti dice, tu non hai partecipato a via Fari, allora farai da autista nel tasbordo del... E Morucci, che vista come aveva reagito la Faranda a questa proposta di Moretti, si propone, dicendo a Moretti, convincendo a Moretti con un marchincegno che forse sarebbe stato meglio che lui fosse andato lui, e non perché lui era andato fino alla standa e che quindi aveva assistito al tasbordo e che quindi non bisognava... Sanno dove sta a Moro. Morucci si propone di evitare la Faranda, questo compito, e bagna lui insieme con Seghetti. Ma intanto, ma intanto Moretti porta agli abitanti di via Montalcini, chiamiamo così, la decisione finale. Decisione finale di uccidere Moro. Noi gli abbiamo fatta la domanda. A che ha detto, nessuno mi ha obbligato a entrare nelle Brigade Rosse. Ci sono entrato volontariamente. Sapevo in quale tipo di organizzazione entravo. Sapevo quali erano gli obiettivi di questa organizzazione. Sapevo della pratica omicidiaria seguita da questa organizzazione. Sapevo che un giorno o l'altro mi sarei trovato di fronte all'eventualità di impugnare una pistola e di uccidere, di sparare, come del resto già avevo fatto quando ho ferito Uras. Questo è sostanzialmente il succo delle ligazioni di lui. E allora, dice, la faranda, che pure sta sulla sua stessa posizione, che compare la morte di Moro, cerca di evitare di fare il trasbordo del suo cadale. Ma io mi sono allora chiesto, dopo aver sentito, ma che cosa impediva, l'abbiamo detto, nella domanda, l'abbiamo fatto. Cioè, la siamo posta e l'abbiamo posta. Ma che cosa impediva, ma cari, di dire a Moretti, no, io non lo faccio? No, io non lo faccio. Io sono, ho votato contro la morte di Moro. Io, per le mie ragioni che spiegherò, che ho spiegato e che condivito con quelle che in quel momento si dibattevano nel Paese, io questa cosa non la faccio. Avete deciso di uccidere Moro? Fatelo voi. Fallo tu. E che cosa impediva? A Maccari che andava e veniva, perché posso, io perché ho fatto la domanda, ma lei durante i 55 giorni è stata sempre fisso lì, come dicono, come sembra dire Moretti, perché si può capire, io non potevo uscire, e non è che a un certo momento potevo aprire la porta e andarmene, perché altrimenti sarei stato scoperto, avrei messo sì, a repentaglio, la base, no, come per esempio poteva fare Gallinari. No, uno che va e che viene, che va a dormire a casa, poi ritorna, poi si ferma una notte, poi un'altra notte invece non ritorna. Che cosa impediva di andare via? Perché doveva mettere a repentaglio la base, se stava zitto come è stato zitto per 18 anni? Perché doveva mettere a repentaglio i risultati dell'operazione Moro? Perché voi credete che Moretti non avrebbe trovato alternativa all'uccisione di Moro? Cosa impediva a Maccari di aprire la porta e di andare via? Non credo che Moretti gli avrebbe sparato addosso, non credo che Gallinari gli avrebbe, nemmeno lui l'ha detto, non credo che la Brachetti gli avrebbero sparato addosso. Quando se n'è andato dalle Brigade Rosse, quando ha voluto, nessuno gli ha sparato addosso. hanno minacciato Morucci e Faranta, li hanno condannati a morte. Perché? Perché erano stati quelli che avevano esplicitato il loro pensiero contro le Brigade Rosse. Non certamente Maccari. I brigadisti, dopo che Morucci e Faranta hanno abbandonato la base di via Giavrera, mi sembra, scrivendo no al fermo di polizia, lasciando questa scritta, portandosi via le armi, hanno minacciato di morte Morucci e Faranta. Perché Morucci e Faranta erano quelli che si erano battuti contro di loro per salvare Morucci. O comunque non condividevano l'impostazione militarista delle Brigade Rosse. E allora da qui bisogna dare argomenti logici. Allora perché non hai seguito Morucci e Faranta? Cheppure sono stati gli sponsor di questa operazione. E tu hai ingresso nelle Brigade Rosse. Della tua partecipazione all'operazione Moro. Del tuo ruolo che hai dovuto svolgere. ho dovuto cedere, accettare. Attimente avrei messo a repentaglio la base, avrei messo comunque, mi sono reso disponibile. quella mattina del 9 maggio a trasportare Moro dentro quella cesta e a fare da copertura a Moretti. Mio Presidente, lei ha fatto la domanda. Perché io richiamo sempre i precedenti processi e le precedenti carte processuali. Ogni qualvolta, e lo abbiamo sentito anche in quest'Aula da Etro, ogni qualvolta si è parlato di ruolo di copertura si è sempre detto che uno doveva intervenire invece dell'atto nel caso in cui non si fosse verificato l'evento che doveva verificarsi. Etro ci ha spiegato che egli era stato scelto per sparare su Palma e che il ruolo di copertura era stato affidato a Gallinari e che dal momento che Etro non ha sparato su Palma il colui che svolgeva il ruolo di copertura ha con una raffica ucciso di Scorpion ucciso Palma. Il ruolo di copertura non è portare due armi o la bossa nelle armi. Il ruolo di copertura non è fare come fa l'infermiera al chirurgo passagli i bisturi o le carse e allora qual è il ruolo di Maccari? Che ruolo gli affidano Moretti? Quello sottanto di rispondere eventualmente se fossero stati intercettati durante il trasporto di Moro dal primo piano al garage quello di intervenire durante il trasporto del cadavere ma questi sono tutti ruoli che sono insidi nella partecipazione all'ultimo momento all'ultimo evento è evidente che se insieme trasportano il cadavere di Moro se la macchina fosse stata intercettata da Polizia entrambi avrebbero reagito lo stesso avrebbero fatto Morucci e Seghetti che si trovavano a bordo della Simcaverbe con la quale c'è stato quel rendezvous ma il ruolo che gli deve svolgere dentro quel garage dentro una volta che Moro è stato portato giù nel garage porta le armi noi avevamo appreso prima di sentire Maccari alla faranda che poi Morucci gli aveva riferito che a sparare su un morto non era stato Gallinari ma erano stati Moretti e Maccari allora voi mi dovete dire perché la faranda deve mentire su questa cosa e non ha mentito sulle altre circostanze a voi mi direte ma sì ma in questo caso attenzione questo è il caso specifico il punto specifico la faranda riferisce cose del relato non cose che ha visto con i suoi occhi né cose che ha sentito con le sue orecchie durante la discussione in via Iabrela dice cose di avere appeso da Morucci allora mi dovete dire perché Morucci deve mentire alla faranda allora mi dovete dire perché Moretti deve mentire a Morucci quando dice siamo stati io e Maccari Moretti che soltanto successivamente dopo l'intervista non si assume la paternità esclusiva del omicidio di Morucci scagionando quindi anche Gallinari che fino a quel a quel momento aveva portato la croce del regicino allora mi dovete dare una spiegazione logica a perché Morucci la faranda deve mentire perché Morucci deve mentire alla faranda perché Moretti deve mentire a Morucci ancora sotto il profilo dell'attendibilità estrinseca e anche di queste dichiarazioni delle ultime dichiarazioni del Maccari noi dobbiamo vedere se per caso vi sono altre risultanze processuali che possono avere anche il carattere dell'obiettività che possono contrastare con questa dichiarazione del Maccari perché cosa ci ha detto sostanzialmente Maccari ci ha detto che Moretti si era assunto il compito di uccidere Morucci si era armato della PPK e lui si era armato della Scorpion invertendo quindi quello che noi sapevamo prima cioè noi sapevamo attraverso la faranda che Moretti aveva la Scorpion e che aveva dato una raffiga a Moro poi Moro non era morto era intervenuto Maccari che aveva sparato con la PPK questo sapevamo noi dalle dichiarazioni della Faranda Maccari invece dice no io non impugnavo la PPK ma la impugnava Moretti io impugnavo lo Scorpion è stato prima Moro attinto da un colpo o due una o due detonazioni da parte del PPK poi la PPK si inceppa e Moretti mi chiede agitato di passaglio lo Scorpion e io sento voltato voltato una raffiga una o due raffiche della mitaglietta sconto allora il primo riscontro che noi siamo andati a ricercare è vedere se per caso nelle perizie balistiche che sono state predisposte durante i vari processi e soprattutto nelle dichiarazioni del perito dei benedetti rese qui in aula noi trovassimo un conforto a queste dichiarazioni del rimaccare e trovassimo conforto o contrasto oppure conforto o contrasto con le dichiarazioni della della falanga e perché noi dobbiamo decidere chi dice la verità dice la verità ma cari di cui abbiamo già esaminato tutti i momenti in cui non ha detto la verità o dice la verità la farà di cui abbiamo esaminato anche implicitamente tutti i momenti in cui può aver taciuto presidente delle cose ma mai detto il falso lo sfido alla difesa di trovare una dichiarazione della falanga nei vari processi che si sono succeduti in cui si possa dire che è una dichiarazione falsa ma non ridicente se non ridicente può dire che è ridicente ma non può mai dire falsa che ho mai accusato ingiustamente una persona sapendola innocente questo significa accusare una persona sapendo di mentire e accusando una persona sapendola innocente quindi anche dichiarazione calugnosa allora se noi dobbiamo secondo l'insegnamento del supremo della suprema corte di cassazione verificare l'attendibilità anche sotto il profilo estrinseco noi dobbiamo vedere quali elementi che noi possiamo trarre agli unde possono confortare l'una o l'altra tesi l'una o l'altra dichiarazione che sono in contrasto tra di loro e allora noi abbiamo appreso l'avete appreso con le vostre orecchie dalla voce di Benedetto che quando è stato trovato questa pipi capa sono state fatte tutte le prove e la la pistola non si è mai inceppata sono state fatte delle prove questa pistola è stata trovata successivamente nel covo di via silvano la pipi capo il De Benedetti il reggere delle sue testimonianze le sue dichiarazioni dal resto lo ha detto anche nella perizia ha dichiarato che loro non hanno nessun elemento per dire che questa pistola durante non si sia mai inceppata comunque non si è mai inceppata durante le prove che loro hanno fatto primo elemento che noi troviamo in contrasto con le dichiarazioni dell'inceppamento della pipi capa secondo macca il secondo elemento noi lo troviamo invece nella prima perizia morta oltre che nelle fotografie che io vi ho legate gli altri in cui voi vedrete come il colpo quello da calibro 9 corto sia un po' distante dalla raffiga dalla rosa che si vede sul torace di Moro nella parte della parte sinistra al di là delle fotografie che possono che possono produrre inganno ma già sono visivamente visivamente significative voi vi dovete rileggere vi dovete rileggere quello che hanno scritto i periti poi sulla successione eventuale dei colpi non hanno dato delle risposte chiare certe sulla successione cronologica dei colpi però però se noi dobbiamo in questa valutazione critica delle dichiarazioni dell'imputato sotto il profilo estrinseco noi dobbiamo valutare tutti gli elementi che sono stati posti in luce soprattutto quelli che sono che provendono dai periti dai periti balistici ebbene noi troviamo questa espressione signor Presidente in questa a pagina 91 a pagina 91 della perizia balistica fatta dal periti generale Roberto Boragio Antonio Colini ed altri si scrive a stare all'impatto sulla lamiera e ad un'impronta vicina che corrisponde metricamente con il secondo foro sulla schiena della giacca quello basso si hanno validi motivi di ritenere che almeno rilevamente a questi due colpi 1 9 corto Brown e 1 32 Brown 7 65 la posizione della vittima al momento dello sparo di tali colpi di questi due colpi deve essere stata quella nella quale fu ritrovata e anche osservata da uno di noi che intervenne immediatamente sul posto del ritrovamento che significa questo che significa significa che i periti esaminando il tramite intrasomatico e valutandolo alla stregua della posizione del corpo al momento del ritrovamento in via Gaetano tenuto conto dei colpi che sono stati sparati e tenuto conto che sono state utilizzate due armi una calibro 9 corto e l'altra 7 65 Brown e che a sparare è stata una pistola ppk e una mitraglietta hanno visto che gli ultimi due corti uno della mitraglietta e l'altro caldo a 9 corti sono stati quelli dal tramite esomatico e devono essere stati gli ultimi gli ultimi che hanno attinto la vittima che già si è si trovava nella posizione in cui è stata poi ritrovata come è stato osservato da uno di noi che intervenne immediatamente sul posto di ritrovamento ora se io sparo con prima con una mitraglietta arraffica è chiaro che io creo un un sussulto del corpo del torace nella posizione in cui Moro si trova in quella porta bagaglia e quando poi attempo che l'ultimo colpo che lo ha raggiunto è già quello che si trova nella posizione finale e trovo un altro colpo calibro 9 allora devo dire che quel calibro 9 colpo è stato sparato quando Moro già si trovava nella posizione finale non può essere stato l'inverso perché se fosse stato sparato il primo colpo calibro 9 il corpo con la svendagliata della raffica della mitraglietta avrebbe avuto un sussulto che avrebbe modificato la posizione del corpo e quindi io ritengo che dalla descrizione che i periti fanno della posizione del corpo di Moro al momento in cui fu ritrovato nella via Gaidale tenuto conto delle due pistole che hanno sparato delle modalità degli spari del calibro delle pistole e della posizione del colpo meglio del tramite intrasomatico dei colpi abbia sparato prima la mitaglietta e poi ne ha carico nove colpi così come ha detto la paranza così come sempre è stato detto che quello è stato il colpo di Grazia io non ho trovato le dichiarazioni che hanno reso i periti ma mi sembra di aver sempre sentito non ho partecipato al primo processo Moro aver sempre sentito l'espressione di questo genere il caldo nove colpi è stato quello sparato per ultimo e deve essere stato il colpo di Grazia anche se i periti naturalmente non lo possono dire con estrema certezza però se noi usiamo questi motivi validi signor Presidente a quei motivi che si sono stati indicati da De Benedetto dal perito che noi abbiamo nominato a 18 anni in distanza per sapere se per caso una delle due pistole si era inceppata perché lo aveva detto Morucci nel corso di lunedì in toleratorio e loro lo hanno escluso e allora noi dobbiamo concludere a chi dare ragione dobbiamo dire che si sbagliano i periti si sbaglia De Benedetti quando dice che la PPK si è inceppata non si è inceppata mai dobbiamo dare ragione a a Maccari o dobbiamo dare ragione alla Falanda e dire che le dichiarazioni della Falanda appaiono confortate da altre risultanze processuali quantomeno da questi elementi che sono stati indicati dai periti mentre le dichiarazioni del Maccari appaiono in contrasto con questi elementi a parte ogni atta considerazione logica che abbiamo fatto prima ora voi mi direte e questo non è il problema tecnico giuridico che il fatto che Maccari abbia sparato non abbia sparato quel colpo non è che c'è la sua responsabilità e può in qualche modo indiciare la configurazione dell'omicidio volontario così come è stato contestato certo che no certo che no che noi abbiamo già detto che Maccari ha accettato l'omicidio che Maccari si è prestato a fare da copertura e Maccari sostanzialmente accettando poi ha voluto nemmeno sotto il profilo del dolo eventuale ne possiamo parlare ma il problema è la chiarezza presidente la chiarezza la verità perché non vogliamo continuare per anni a sostenere come è stato sostenuto per anni che è l'unico a sparare dal Stato Gallinari e adesso non vogliamo continuare per altri 18 anni a sostenere che è l'unico a sparare è stato Moretti fino a quando attraverso un'intervista non apprendiamo una cosa diversa la chiarezza quella chiarezza a cui si è rifatta la faranda fornendo le sue prime dichiarazioni su questo punto e allora dobbiamo dire che se tutto ciò non inficia naturalmente la configurazione dell'omicidio volontario non diminuisce la responsabilità del 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 Maccari e dobbiamo anche dire che quello che stiamo sostenendo non indice neppure il fatto che il Maccari ad un certo momento sia perché schiacciato dal peso della prova sia perché schiacciato dal peso insopportabile sulla sua coscienza abbia deciso di fare quelle dichiarazioni abbia deciso cioè di tenere un comportamento diverso da quello tenuto per 18 anni in cui è stato zitto o di quello tenuto nel corso di questi due anni tre anni dal momento del suo arresto in cui ha negato strenuamente come del resto è comprensibile da parte di un imputato che viene accusato di un gravissimi fatti e allora noi dobbiamo dire questo comportamento comunque del Maccari al di là che egli nasconda cose che non vuole ancora dire al di là che egli cerchi di ritagliarsi addosso questa limitata responsabilità a di là che voglia allontanare da sé come un calice amare questo atroce delitto di via Montalcini in quell'androne di un garage in quel in quel in quel portabagagli perché non è comprensibile ma chi non vede l'atrocità di questo fatto ancora più atroce di quello di via Vani perché quantomeno a via Vani si è andato a scontrare armi in pugno e si è accettato il rischio si è accettato il conflitto a fuoco con agenti di polizia ma lì c'è un uomo inerme inerte pacifico come è stato descritto dallo stesso Maccari un uomo che viene svegliato la mattina e che viene accompagnato al padibolo in quel modo e Maccari tenta anche di dare un velo di umanità a questa esecuzione perché dice che a un certo momento Moretti avrebbe coperto Moro con quella coperta e poi avrebbe sparato ma non è così Maccari perché le fotografie della coperta i rilevi fotografici dimostrano il contrario dicono che non ci sono buchi su quella coperta non c'è nemmeno questo atto di pietà non c'è nemmeno questo gesto pietoso e non vuole vedere non vuole vedere l'esecuzione portato dall'altra parte lo può negare allora è comprensibile può essere comprensibile perché è comprensibile anche l'oglio a certe volte anche se contrasta con l'umana pietà tutto possiamo comprendere ma non possiamo comprendere che si nasconda la verità non possiamo accettare più oltre che non si faccia chiarezza e allora bilangiando signor presidente queste due trementi se così possiamo dire o bilangiando queste considerazioni noi dobbiamo appunto perché c'è questo approccio diverso certi fatti pur gravissimi che si sono verificati appunto perché sono fatti che noi non vogliamo dimenticare appunto perché sono fatti che noi vogliamo conoscere nella loro compretezza appunto perché sono fatti per quale noi vogliamo continuare a riflettere e noi dobbiamo anche capire il comportamento di Maccani e trovare anche in questo in questo giro che è stato fatto anche in questa in questa fatica no che noi abbiamo notato per avvicinarsi a un momento di chiarezza a un momento di tre anni e poi tutti gli anni antecedenti tutti gli anni antecedenti in cui certamente non c'era il peso schiacciante della prova che nessuno mai l'aveva accusato nessuno mai l'aveva indicato ci poteva essere soltanto il peso insopportabile della coscienza e decidere di andare a confessare o no o decidere di confessare al momento al momento in cui si è individuato al momento in cui si è incriminato al momento in cui si è incarcerato al momento in cui si espongono gli elementi di prova contro di lui al momento in cui si fanno i confronti al momento in cui la falanda punta il dito contro di lui è comprensibile un atteggiamento così tenecemente negativo come è stato per tre anni allora noi che valenza dobbiamo dare a queste dichiarazioni confessorie dell'ultima ora una valenza di resa anche quanto ci si arrende bisogna rendere onore ai vinti ma non onore tra virgolette cioè bisogna in qualche modo tener conto della resa della resa signor presidente davanti alla verità della resa davanti alla luce della verità non si può continuare a tenere la porta chiusa e le persiane chiuse il buio deve essere eliminato e allora se anche attraverso uno spiraglio con i contorcimenti di cui abbiamo parlato con con i nascondimenti con con le comprensibili le licenze signor presidente noi dobbiamo pure dare un valore a chi apre uno spiraglio a chi dice beh adesso vi dico come sono andate le cose confesso di essere stato in via Montalcini durante 55 giorni di morte a chi telefona al periodo dice inutile che io vengo a fare la la comparazione grafica perché ho deciso di confessare allora dobbiamo trovare dobbiamo trovare nelle maglie del codice oltre che nella nostra coscienza un momento di valutazione di questo comportamento di questo atteggiamento che pure abbiamo criticato eppure abbiamo il dovere di confutare nelle parti che non ci appaiono convincenti o nelle parti che riteniamo revicenti o nelle parti che riteniamo non vere ma globalmente considerato signor presidente noi non possiamo non valutarlo non solo alla strega di quell'articolo 133 di cui è stato fatto richiamo da parte del collega Ionda ma alla strega del 62 numero bis cioè della concessione di attenuanti generi che però per tutto quello che abbiamo detto possono essere considerate soltanto equivalenti all'aggravante della contestata e quindi trasformare quella che era la pena inevitabile che Maccari avrebbe avuto cioè la pena dell'ergastolo per questi fatti anzi di più ergastoli di più ergastoli che poi sono ergastoli con l'isolamento di U ma concedendo le attenuanti generiche da ritenere equivalenti esclusivamente equivalenti all'aggravante contestata noi dobbiamo arrivare alla pena della reclusione che comunque non può essere superiore a quella di 30 anni pur tenendo conto dei reati continuati visto che i vari reati di cui è imputato il Maccari possono essere ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione ma la pena signor Presidente deve essere quella giusta adeguata cioè di 30 anni di reclusione è poi la pena massima prevista dal codice per quanto riguarda la reclusione e che può essere soltanto superata dalla pena del ergastolo una piccola parentesi signor Presidente per quanto riguarda la qualificazione giuridica del fatto noi abbiamo contestato nel capo di diputazione come lei avrà visto il 289 bis perché abbiamo ritenuto che il sequestro di persona essendo un reato permanente a questo sequestro di persona dovesse essere applicata la legge e la norma speciale del 289 bis che è quella norma che è stata introdotta proprio dal legislatore proprio dopo che era avvenuto recidio di via fare e infatti è stato introdotto con un decreto legge che è del 18 marzo del 1978 che è poi stato convertito in legge quindi riteniamo come del resto è stato ritenuto dai giudici del Moro Ter che la qualificazione esatta sia quella del 289 bis cioè del sequestro di persona per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico io ho finito signor Presidente naturalmente non posso aver detto tutto mi scuso con lei signor Presidente mi scuso se sono i giudici se avevo messo qualche cosa ma credo poter dire che secondo le mie modeste forze di avere assolto a quel dovere che mi competeva di illustrare a voi giudici quali sono le ragioni dell'accusa le ragioni dell'accusa per cui Maccari deve essere ritenuto responsabile dei reati che gli sono stati contestati e condannato alla pena che vi è stata richiesta adesso voi sentirete le ragioni della difesa e poi dovrete decidere secondo la vostra coscienza ma dovrete decidere secondo quel giuramento che voi avete fatto all'inizio e che voi possiate mettere una sentenza giusta così come la società l'attenta grazie sono le 13 e 30 facciamo se non ci sono voci contrarie una sospensione di mezz'ora e poi sentiamo le difensioni delle parti civili possiamo riprendere la discussione c'è un accordo sull'ordine degli interventi mi pare che parla l'avvocato Alquarori illustre presidente signore e signori della corte perché siamo qui ancora dopo più di 15 anni a sostenere il nostro compito in questo processo che la ultima sentenza ha definito seriale beh prima di ogni altra considerazione siamo qui perché ci pare che le povere vittime di Ozzini di Ozzino Ricci Leonardo Rivera Zizi Moro meritino che si riviva il loro dramma prima di tutto nelle aule di giustizia per il rispetto che si deve a questa funzione così cara ad ogni nazione civile così difficile così faticosa e così meritoria ci conforta e non da oggi come persone offese constatare con quanto ininterrotto profondo impegno si siano battuti in una lotta così difficile così ardua i rappresentanti della cosa e questo quest'oggi ne abbiamo avuto una confortante dimostrazione si sostiene dai protagonisti imputati qui e fuori che il vero processo non si fa nelle aule giudiziarie il processo vero a loro avviso deve farsi in altre sedi se ne deve occupare un diverso un diverso un diverso palcoscenico che sia quello della politica che sia quello più solenne della storia ma sono luoghi comuni sono affermazioni di scassa serietà perché se è vero come è stato ricordato i sforzi di tutti quanti siamo impegnati in questa sede devono convergere verso l'accertamento del vero non vedo come si possa in un qualche modo ritenere che questa non sia la sede perché il dramma nazionale che abbiamo vissuto e che rievochiamo non senza una partecipazione dolente illustri signori della corte possa trovare la prima e ineludibile definizione di verità però vedano signori io sono portatore e me ne voglio scusare in ansia a questa corte come ho già fatto nelle precedenti in precedenti processi io sono portatore di alcune istanze che riguardano in modo più diretto le parti che io rappresento e mi scuso perché illustri presidente perché riandando alle ultime sentenze alla stessa sentenza che ha definito il cosiddetto Moro Quater ho dovuto constatare come si debba registrare diciamo una certa presa di distanza diciamo dalle questioni dalle da quelle angoscianti da quelle per noi veramente tormentose questioni che sebano ormai non più proponibili nella sede giudiziaria e cheppure siamo convinti che sovrastino ancora questa vicenda che forse meritino anche dai giudici che sono chiamati a definire le responsabilità dei singoli degli imputati meritino una certa attenzione io ho ancora e ricordo un monito severo un monito direi terribile che si può si può rimpenire nelle pagine della prima settanza quella del 1983 ecco la Corte mi si consenta questa lettura per suo conto deve per onestà affermare che gli sforzi compiuti in questi anni da magistrati ed inquirenti pur con limiti insiti in una attività obbligata a salvaguardare esigenze procedurali e sostanziali hanno portato ad acquisire tutta una serie di elementi che rivelano da un lato la peculiarità del fenomeno dall'altro un quadro allarmante di complicità esterna e di interferenze che vanno denunciate e stroncate con la massima decisione ecco illustre presidente signore della Corte come queste gravi questioni sembra possano trovare ricetto anche nella presente sé e dobbiamo dare atto alle corti ai magistrati che si sono sussepiti che forse questo monito è valso anche ad approfondire le indagini più specificamente giudiziarie e si è avuto modo infatti di poter come si è constatato individuare condannare soggetti che sono stati coinvolti in questa vicenda però quando abbiamo visto di recenti che ormai l'indagine ha il suo piccolo orto c'è la responsabilità di questi c'è la responsabilità di quest'altro e quindi ormai il termine è ben chiaro mi consenta il nostro presidente mi consenta il signore della Corte di dire che noi siamo invece convinti che questa chiarezza questa semplificazione non sia scontata sempre riandando al primo processo altre affermazioni che non possono passare sotto silenzio si sono ormai fissate nella storia processuale della vicenda Moro come questa non mancarono osservatori interessati a morare il corso degli eventi e si domanda alla sentenza se sia stato un tentativo di aggancio rimasto tale o non sia andato l'ora si denunciano furono denunciati gli errori e le omissioni ricollegabili perché non dirlo perché non ricordarlo ai vertici degli apparati preventivi e repressivi e a quella affermazione autorevole resa in sede giudiziaria fece ecco un'altra affermazione di un organismo certo non trascurabile quale la commissione che ha precisamente affermato come siano state documentate gravissime negligenze apparentemente inspiegabili se non motivate da un interesse a non veder risolto positivamente il dramma che era in corso o a un sostanziale disinteresse per ciò che stava accadendo ecco forse spiegarsi perché taluni che pure avrebbero interesse a presenziare queste udienze non figurano perché ancora questi dubbi laceranti segnano le coscienze di molti non possiamo negare del resto quello che viene scritto viene detto viene sostenuto anche autorevolmente intorno al caso Moro cosiddetto in altre serie diverse dalla presente ma veda perché intrattenere la corte con argomenti di cui io stesso sono persuaso non siano di stretta pertinenza all'indagine processuale e devo dire subito signor presidente signori della corte che ne sono stato invogliato devo dire proprio dai rappresentanti della pubblica accusa i quali hanno tenuto a precisare che si continuerà ad indagare non ha ancora compiuto il suo tragitto questa nobile fatica dei giudici si continuerà ad indagare quando qui si sarà convinti che tutto sia chiarito allora diamo pure la parola agli storici ai critici ai letterari ma finché sarà possibile si continuerà ad indagare io sfrondo questa lista diciamo di doleance per quanto riguarda gli errori quanto non si è fatto e si si poteva fare quanto ci ha impedito finora di toccare per mano la verità tutta intera e allora mi avvicinerò di più ai temi di questo processo ecco è curioso signor presidente che voci autorevoli ma la sentenza del monoclato lo dice è un processo seriale quindi alcune verità soprattutto quelle che riguardano gli imputati sono state rivisitate e abbiamo ottenuto delle acquisizioni che divergono dalle precedenti e questo è certo è accaduto ma volevo alludere per esempio ad una proposizione di una ordinanza di rinvio quindi un documento autorevole del processo dove non si è non ci si è peritati di affermare per esempio che il quarto uomo non esisteva oggi invece sappiamo il contrario abbiamo il quarto uomo e non solo abbiamo il quarto uomo che certo non ha apportato come rilevavano i rappresentanti dell'acusa quel bagaglio di conoscenze che ci consentisse di affermare che abbiamo un progresso sostanziale io non direi che siamo in queste condizioni anzi forse è piuttosto deludente il risultato ma sono pure emerse alcune circostanze sono emersi alcuni fatti che ci portano ancora a riflettere su quel lacerante dubbio di cui parlavamo all'inizio quando abbiamo potuto sentire sia pure marginalmente alcuni di questi protagonisti delle brigate rosse e sia pure magari al di fuori dell'aula di giustizia ma tuttavia queste dichiarazioni sono poi state in qualche modo reintrodotte in quest'aula e noi possiamo ad esempio e dobbiamo penso farci carico di di soppesarne il significato la portata quando gallinari non lo sanno chi è gallinari rende una dichiarazione all'unità certo non in questa sedia e di questo tipo io rileggo la storia allora c'era chi doveva cercarci e non lo faceva perché era della P2 o altra centrale collegata perché loro andava bene moro morto e poi non sono soltanto le sue dichiarazioni perché lo stesso Moretti al messaggero il 25 ottobre 1993 siamo stati strumentalizzati pensavamo di combattere la DC e invece abbiamo inconsapevolmente favorito altri disegni dubbi ecco ci attendevamo certo dal quarto uomo altri contributi di conoscenza non ve ne sono stati questi dubbi restano pesanti per noi laceranti non si sono dissolti vogliamo augurarci che ciò avvenga nel corso di altre indagini preannunciate o che si debbano comunque attuare perché ci si avvicini appunto alla verità venendo ai nostri protagonisti abbiamo tentato soprattutto verso Maccari di stimolare i suoi ricordi le sue valutazioni di questa che per lui è stata una amara esperienza perché ci desse appunto la possibilità di approfondire questi tema e il risultato devo dire è mancato quando abbiamo premuto su di lui anche forse con eccessiva insistenza perché da quella prigione potesse pervenirci qualche utile elemento di valutazione di giudizio di conoscenza la risposta non vi è stata eppure noi avremmo voluto sapere da Maccari che ha avuto frequentazione con suetudine possibilità di scambio come è stato ricordato con i suoi compagni di carcere con i suoi compagni carcerieri in particolare con il Moretti ma Maccari su questo afferma di non poter rispondere certo non avrà ignorato quelle tappe salienti del sequestro di cui tutta l'Italia seguiva con trepidazione lo svolgimento e e quindi c'è da ritenere che con i suoi compagni col Moretti in particolare se ne sia se ne sia parlato e come quando allora è stato detto perché perché questa decisione di morte sarebbe stata assunta così all'improvviso noi abbiamo ancora negli orecchi le sue risposte ma ci chiediamo veramente se sia stato Moretti se siano stati i colleghi del comitato esecutivo a decidere la soppressione dell'ostaggio sì si è detto appunto che prima di decidere era stata una un'ampia consultazione di tutti i brigatisti sia regolari che irregolari anche dei compagni prigionieri ma sarà poi vero questo perché ricordiamo che l'atteggiamento dei compagni prigionieri non sia stato poi così deciso così semplice come si pretende e allora è soltanto perché queste quattro persone e addirittura il loro capo il solo Moretti abbiano ritenuto di dover eseguire la condanna che se ne debba prendere passivamente a criticamente atto senza meditare se questo sia stato veramente l'unico motivo una decisione presa al vertice le brigate rosse erano organizzate secondo un modello di centralismo democratico si sostiene e quindi sia stato un fatto interno assolutamente interno alle brigate rosse non vi sono misteri su questo punto è solo che e glielo abbiamo rammentato a Maccari solo che vi è e agli atti è provata una circostanza che è appunto quella terribile telefonata del Moretti del 30 di Maccio del 30 di Aprile alla vedova della signora Moro che termina con queste parole quando in un certo modo Moretti rimprovera voi non siete intervenuti direttamente perché siete mal consigliati abbiamo fatto quel che abbiamo potuto rispondeva la povera signora Moro e no insiste il Moretti il problema è politico e a questo punto deve intervenire la DC se questo non avviene solo un intervento diretto immediato chiarificatore preciso di Zaccagnini può modificare la situazione noi abbiamo preso una decisione nelle prossime ore accadrà l'inevitabile non possiamo fare altrimenti non ho niente da dire questa telefonata ebbe luogo il 30 aprile da sotto passaggio della stazione Termini e le prossime ore accadrà l'inevitabile ebbene non solo non accadde nulla nelle prossime ore ma sono trascorse nove volte ventiquattro ore senza che nulla accadesse se potessimo avere qualche anche vago tenue elemento che ci consentisse davvero di ricostruire la storia di quelle giornate dal 30 al 9 di maggio dal 30 al 9 di maggio quanto mi saremmo appagati ma niente su questo punto salvo quanto risulta dalle dichiarazioni dei protagonisti più eminenti quello che sia veramente accaduto noi lo ignoriamo possiamo soltanto esprimere sorpresa sbigottimento quando dobbiamo constatare che a dispetto di queste dichiarazioni del più autorevole dei brigatisti si sia decisa la soppressione di Moro proprio quando stava per verificarsi quello che i brigatisti avevano chiesto sarebbe bastata forse un'ora qualche ora perché si potesse verificare un ripensamento dei brigatisti questo non è accaduto dobbiamo chiederci allora se veramente sia stata una decisione autonoma non dico meditata autonoma delle brigate rosse e questo è un motivo certo lascio allor signori considerare quanto per noi sia sia diciamo presente quasi quasi ossessivo ce ne vorrete scusare ma noi non possiamo nemmeno di riproporlo anche in una sede in cui forse queste considerazioni non dovrebbero trovare ricetto ma abbiamo forse appreso di più per quanto riguarda anche le ultime ore del prigioniero per quanto riguarda gli stessi carcerieri vi sono dichiarazioni che possano tranquillizzarci sulla sulla ultima fase della amara prigione di Moro nemmeno questo forse si è ottenuto abbiamo sentito il nostro imputato principale è inutile quindi richiamare le sue dichiarazioni ma quando noi poi leggiamo nella sentenza Moro Quater alcune dichiarazioni prese dalla Braghetti e certo le stiamo perplessi signor presidente perché la Braghetti a foglio 47 della sentenza sugli ultimi momenti di vita di Aldo Moro Anna Laura Braghetti ha anzitutto precisato che all'interpellanza rivolta anche ai quattro che detenevano il prigioniero in ordine al destino di quest'ultimo uno solo rispose che non era d'accordo perché l'onorevole aveva già subito era una questione umanitaria se così vogliamo leggere aveva già subito un lungo periodo di prigionia che l'aveva credo profondamente segnato la condanna a morte veniva vissuta come un aggravio di questo patimento che lui aveva già subito io non ero d'accordo e io ho letto queste dichiarazioni riportate nella sentenza devo dire con sorpresa e anche con amarezza perché disposti come siamo a comprendere gli imputati pur se tanto lutto hanno arrecato le persone che rappresentiamo proviamo disagio quando cogliamo queste queste affermazioni che che non sembrano vere ci ci duole tutto questo però non posso a meno di manifestare questo disagio ora signori congedandomi da voi lasciatevi ancora una volta io esprima solidarietà il profondo ringraziamento verso il lavoro che hanno svolto e che oggi abbiamo potuto apprezzare in modo conclusivo quasi a compendio della loro fatica i rappresentanti dell'accusa e vorrei rammentarvi le parole del del dottor Marini a proposito di due di due circostanze si era certi quel 16 di marzo del 78 che Moro sarebbe passato per via Fani con la sua scorta è chi non sente diciamo tutta tutta la rilevanza tutta la direi la gravità di questa constatazione forse potrà servire di sostegno a chi ha inteso ha dichiarato che questo lavoro terminerà soltanto quando tutto verrà chiarito e ancora ma perché dobbiamo uccidere Moro veramente era inevitabile questa scelta di morte ma perché dobbiamo chiedercelo sempre forse che le Brigate Rosse hanno sempre soppresso i propri ostaggi sì le Brigate Rosse seconda maniera quelle di Senzani hanno soppresso l'ingegner Taliercio ma gli altri ostaggi quelli che hanno subito una lunga prigionia sono stati forse soppressi non era una regola questa per le Brigate Rosse perché Moro quando erano ragioni forse più valide perché fosse liberate perché Moro mi chiedo di comprendermi anche di perdonare e mi ha terminato da voi con un breve accenno alla questione della pena signor Presidente signore della Corte se voi riterrete di usare clemenza verso gli imputati i miei rappresentati non hanno motivo che lo dichiarano di dolerse Giovanni e Agnese quasi la sollecitano questa clemenza perché Giovanni e Agnese sono i figli di Moro prima che statista uomo giusto uomo limite uomo generoso che seppe non soltanto coltivare la sua fede profonda egli era un vero cristiano ma seppe viverla fino alla sua fin non ho capito se presenta conclusioni scritte posso dire bene il bocato dello Stato rappresento in questa sede e concludo per la presidenza del consiglio dei ministri il ministero dell'interno e il ministero di grazia e giustizia nei confronti dietro del quale si chiede il riconoscimento della penale responsabilità e la condanna al risarcimento dei danni morali e materiali da quantificarsi in separato giudizio e rappresento presidenza del consiglio e il ministero dell'interno nei confronti di Maccari nei cui confronti pure si chiede il riconoscimento della penale responsabilità con condanna alle penne che saranno ritenute di giustizia e anche qui condanna ai risarcimento dei danni morali e materiali da quantificare in separato giudizio depositerò a termine conclusioni scritte rappresentare lo Stato in questi processi signor Presidente signori della Corte è talvolta un grande peso personale e professionale perché questo Stato chiede chiede molto alla magistratura e ha chiesto molto alla magistratura nella battaglia contro il terrorismo e continuo a chiederlo oggi per l'accertamento di una verità io per questo vorrei aprire questa mia discussione ricordando innanzitutto in questa sede che noi parliamo anche del martirio di un magistrato del Dottor Palma che è uno di quei magistrati che hanno pagato appunto con la vita la loro fedeltà allo Stato e questa lotta cieca e ottusa che il terrorismo ha condotto contro lo Stato per tanti anni come naturalmente ricordo il sacrificio il martirio degli uomini della scorta del Presidente Moro altri fedeli servitori dello Stato del Presidente Moro che di questo Stato dello Stato democratico in cui noi oggi abbiamo la fortuna di vivere è stato sicuramente un difensore e uno degli artetici detto questo Presidente io vorrei soprattutto rivolgermi ai giudici popolari nel sottolineare alcuni aspetti di questo processo ma direi di tutti i processi nei quali si ricerca una verità processuale che è quella che muove la macchina della giustizia che è l'obiettivo a cui ogni sentenza ineudibilmente deve mirare ma anche una verità storica se tutte le sentenze sono uguali in quanto tutte le sentenze devono partire da un accertamento di fatti cioè dall'acclaramento di una verità e giungere quindi alla condanna o alla soluzione delle persone imputate sulla base di questa certa ricostruzione dei fatti ecco ve ne sono però alcune di queste sentenze che oltre a questa ordinare ineludibile funzione di tutte le sentenze hanno di fatto un'ulteriore valenza e un'ulteriore significato che è quello di ricostruire dei fatti che per la loro stessa importanza assurgono a una rilevanza di cronaco o addirittura storica e non vi è dubbio che tutti i processi che riguardano il sequestro e l'omicidio dell'onorevole Moro assurgano di fatto anche a questa ulteriore funzione ciò non vuol dire però che in qualche modo la funzione della sentenza stessa venga modificata al contrario siamo convinti che una sentenza possa avere ed abbia poi in concreto una valenza e una rilevanza per la ricostruzione storica dei fatti cioè per consegnare alla coscienza sociale un sapere su eventi di grande rilevanza avvenuti nel passato solo in quanto sia una buona sentenza ai propri specifici e peculiari fini cioè solo in quanto riesca rigorosamente e sulla base di prove certe inoppugnabili a ricostruire un fatto una situazione e quindi delle responsabilità penali a questo obbligo di rigore che è consacrato nell'obbligo di motivazione a cui nessun provvedimento giuridizionale decisorio si sottrae per fortuna della nostra democrazia non sono certamente sottoposti coloro i quali scrivono libri articoli rendono dichiarazioni pubbliche il che non vuol dire non attribuire a questa ampia produzione la rilevanza e l'importanza che essa certamente ha ma certamente la sentenza ha quei crisi di certezza che altre fonti certamente non hanno ed è per questo che noi ci attendiamo molto sempre che lo Stato si attende molto sempre dalle sentenze e per quanto riguarda la storia delle Brigade Rosse e il caso Mono finora le sentenze hanno egregiamente assolto a questo obbligo noi abbiamo ormai una ampia serie di decisioni che hanno consentito la ricostruzione puntuale rigorosa di grandissima parte delle vicende legate all'eversione rossa in particolare alle Brigade Rosse ed anche al caso Mono ognuna di queste sentenze ha contribuito in parte a costruire questa che è una verità storica in gran parte accertata certo nessuna di queste sentenze può essere considerata esaustiva neanche sul piano storico e noi non chiediamo neanche oggi e ne potremmo chiederlo a questa Corte di darci la sentenza definitiva noi non abbiamo dubbi sul fatto che questa Corte saprà nel migliore dei modi ricostruire i fatti che le sono stati sottoposti la responsabilità penale degli odiani imputati ciò non toglie naturalmente che molti aspetti del caso Moro o alcuni aspetti del caso Moro resteranno ancora da accertare infatti con soddisfazione anche io che saluto questo manifestato impegno dei pubblici ministeri a continuare a continuare ad accertare gli ulteriori fatti e le ulteriori vicende che sono rilevanti per il pieno acclaramento di questa verità noi oggi ci troviamo a giudicare due imputati per dei fatti ben precisi fatti che entrambi vedremo poi con quali differenze anche di tempo hanno riconosciuto ed è su questo che dobbiamo concentrare la nostra attenzione ed è su questo quindi che cercherò di concentrare anche la mia discussione peraltro non possiamo neanche nasconderci in questa sede che in questo momento noi stiamo assistendo ad un fenomeno di nuovo politico rilevante che riguarda le Brigade Rosse e comunque un po' tutti i fatti di terrorismo di quegli anni si parla si è parlato anche dalle massime da parte delle massime autorità dello Stato di un'eventuale diciamo così iniziativa di tipo politico umanitario nei confronti delle persone che furono all'epoca condannate o che sono tuttora condannate per reati di questo genere ecco noi crediamo in tutta onestà che si possa parlare di questa soluzione di questa eventuale uscita diciamo dall'emergenza terroristica che fortunatamente storicamente sembra cessare anche se non è tutto uno dei pubblici ministeri di questo processo pochi mesi fa è stato dedicatario di un attentato terroristico che si è verificato a Roma lo sappiamo bene dicevo ecco il fatto che questo processo possa avere una qualche rilevanza infinitiva eventuale iniziativa legislativa nei confronti del terrorismo io credo che certamente non condizionerà assolutamente questa corte saranno altri a dover vagliare e verificare se tutte le verità del caso Moro se tutte le verità delle brigate rosse sono o meno emerse e se la piena emersione di queste verità sarà necessaria per eventuali iniziative nei confronti delle persone condannate ma ripeto questo è un fattore che noi riteniamo debba restare fuori di questo processo l'oggetto di questo processo sono le imputazioni mosse a Edra Raimondo e Maccari Germano e le prove raccolte intorno a queste elementi noi siamo certi che noi avremo da voi una buona sentenza con degli argomenti assolutamente certi rigorosi ancorati alle prove emersi in questo giudizio e questo sarà il grande contributo alla ricostruzione di una verità storica che aiuterà tutti noi a capire meglio quello che è avvenuto in quegli anni e a chi dovrà poi eventualmente provvedere ad assumere quelle iniziative che sembreranno necessarie questo chiede lo Stato a questa Corte e a tutte le Corte di amministrare la giustizia come certamente è stato fatto in tutti i casi in oro con rigore con la serietà con la coerenza che la magistratura italiana ha e che mi consenta di dirlo in particolare è stata sempre dimostrata in questi casi dalla magistratura romana e dai pubblici ministeri romani a cui noi veramente rivolgiamo un ringraziamento per il loro impegno e la loro serietà e a tutti i collegi che hanno giudicato e dato sentenze a Roma e sono la maggior parte delle sentenze che riguardano le Brigate Rosse detto questo esaminiamo le singole posizioni quella dietro sono due posizioni premetto che giudichiamo in modo diverso perché diverso è stato sicuramente l'atteggiamento e il comportamento dei due imputati in questa sede entro è accusato di reati assai grandi omicidio del giudice Palma concorso nell'omicidio della scorta Moro nel sequestro Moro nell'omicidio Moro sappiamo che c'è già stata una precedente sentenza che ha riconosciuto la partecipazione della banda armata Brigate Rosse dietro sappiamo poi che Etro ha confessato chiaramente in questa sede tutte le sue responsabilità non è preoccupazione formale quella di sottolineare che visto che giustamente una semplice dichiarazione confessoria può anche non essere considerata sufficiente per basare una condanna ecco ricordare però come le confessioni di Etro trovino per esempio pieno e puntuale riscontro in quanto dichiarato dalla Franda anche in questa sede o quanto dichiarato in altri momenti anche dal Moro cioè comunque trovi pieno e puntuale riscontro in tutte le circostanze di fatto in molte precedenti sentenze che riguardano le Brigate Rosse dunque ci sembra che sul piano dell'accertamento della verità ovviamente il primo obbligo a cui ogni giudice deve assolvere francamente nessun dubbio possa affacciarsi sulla effettiva credibilità e piena credibilità delle dichiarazioni che Etro ha reso in questa sede Etro fu certamente un personaggio di spicco nell'ambito dell'organizzazione di Brigate Rosse la storia personale dell'Etro nell'ambito delle formazioni dell'ulta sinistra è stata ricostruita in una storia sicuramente significativa indicativa ma Etro è colo il quale pur partecipando materialmente all'assalto all'attacco contro il giudice Palma ha un sussulto di umanità non riesce a premere il grilletto non riesce a sparare è già questo un primo elemento che sicuramente la Corte dovrà tenere presente nel proprio giudizio come non potrà non tenere presente che in questo giudizio appunto la confessione di Etro è avvenuta prima dell'inizio della fase dibattimentale è avvenuta in modo pieno è avvenuta in modo franco sincero non condizionato ci sembra di dover dare pienamente atto a Etro che il suo comportamento la sua confessione è stata mossa certamente anche da motivi di coscienza e di questo vogliamo dare atto non vogliamo dare un'immagine inutilmente gratuitamente persecutoria dell'amministrazione pubblica contro coloro i quali contro lo Stato certo si sono abbattuti ma che oggi hanno dimostrato in modo francamente credibile di avere veramente nella propria coscienza rifiutato quella tragica esperienza che peraltro anche all'epoca hanno dimostrato di avere un senso di umanità e quindi do atto anche a Etro del contributo che è stato reso non solo per l'acclaramento delle proprie personali responsabilità in questo giudizio ma anche nei confronti dell'altro imputato del Maccari e avrò modo poi di sottolineare come il riconoscimento della fotografia del Maccari scattata all'epoca del servizio militare da parte dell'Etro che aveva visto il Maccari in una precedente riunione ebbene abbia dato sicuramente un contributo probatorio importante e sicuramente come poi illustrerò avrà indotto anche il Maccari una maggiore riflessione sulla propria posizione processuale come vorrei ricordare l'utilissimo contributo reso dall'Etro nel processo Moro Quater in appello si è tenuto pochi giorni fa con la conferma della sentenza di primo grado che peraltro era una sentenza che meritava forse ulteriori riscontri probatori ecco in quella sede l'Etro si è sicuramente reso disponibile da reso utili dichiarazioni per l'accertamento della verità quindi mi pare che l'atteggiamento dell'Etro si è indiscutibilmente volto ad una piena riconoscimento delle proprie responsabilità e tutto ciò riteniamo onesto e corretto doverlo riconoscere pur nel nostro ruolo di parte di parte civile e sottolineiamo anche il contributo di ordine generale dato appunto dall'Etrola ricostruzione dei fatti afferenti alle brigate rosse tutto ciò naturalmente non fa venire meno la enorme gravità dei reati agli imputati la rilevanza della sua partecipazione all'interno dell'organizzazione del caso moro ricordo a me stesso come talune attività per esempio l'avere rubato determinate autovetture all'esplicito e dichiarato fine di mettere la disposizione dell'organizzazione brigate rosse in vista del sequestro moro costituisca per ovviamente costante giurisprudenza una forma di concorso nel reato quindi noi non abbiamo alcun dubbio sul fatto che sussista pienamente la responsabilità e la grave responsabilità dell'etro per la sua partecipazione in quei fatti in quell'epoca ovviamente non possiamo risottolineare questo suo comportamento che ci sembra meritevole di considerazione da parte della Corte ci sembra di poterci fermare qui nella discussione nei confronti dell'etro e passiamo quindi senza altro ad esaminare la posizione del Maccani riteniamo che anche Maccari debba senz'altro rispondere di tutti i reati che gli vengono addossati il discorso su Maccari è sicuramente ricordiamo innanzitutto il capo A si parla non solo di aver partecipato ma anche di avere partecipato in un ruolo rilevante cioè in qualità di organizzatore alla banda armata a Brigate Rosse chiariremo poi perché secondo noi sia necessario riconoscere questo ruolo rilevante di organizzatore cosa che ha una notevole importanza nell'anno per l'economia processuale in quanto farebbe venire meno l'eventuale prescrizione di questo reato e quindi impiegherebbe sicuramente una condanna anche per questo reato appunto di organizzatore di banda armata omicidio della scorta Moro sequestro e omicidio dell'onorevole Moro il Maccari a nostro giudizio è un brigatista atipico chiedo scusa se mi dilungherò anche se in breve sulla personalità dell'imputato ma è chiaramente uno degli elementi centrali che dovranno essere tenuti presenti da questa corte nel valutare l'eventuale pena che dovrà essere irrogata ecco ci sembra che Maccari sia sicuramente un brigatista atipico sotto molti punti di vista mi sembra innanzitutto di poter sottolineare una cosa che mi pare non sia immersa finora però mi pare nelle precedenti discussioni ma mi pare che emerga dagli altri che la sua storia politica in realtà è una storia molto legata al territorio al quartiere un quartiere di centocenne ecco io devo dire che la mia personale convinzione è che le Brigade Rosse siano state da sempre un fenomeno diciamo così genuino un fenomeno nato in Italia nell'ambito di determinate realtà sociali e che ha avuto una sua non è stata etero diretta io ho la sincera convinzione che le Brigade Rosse e dobbiamo fare conti con questo se vogliamo comprendere questa dolorosa pagina della nostra storia siano veramente stato un fenomeno italiano genuino nato in Italia come risposta a determinate tensioni sociali circostanza questa che a mio giudizio dovrà essere tenuto anche presente da coloro i quali dovranno poi occuparsi di una inventata uscita diciamo così politica o comunque umanitaria da quella emergenza di tipo giudiziale però se le Brigade Rosse nascono di solito sul territorio radicate determinate realtà accade poi di solito che almeno i più importanti dei membri delle Brigade Rosse in qualche modo riescano a distaccarsi da questa realtà cioè ad assumere dei ruoli per esempio recandosi al di fuori del proprio territorio di appartenenza o comunque della propria città o più semplicemente del proprio quartiere che riescano cioè a dare vita a strutture che siano di ambito tra virgolette diciamo così di respiro più ampio e in qualche modo quindi a distaccarsi da una determinata realtà più ridotta e più limitata ecco mi pare che per capire bene Maccari la sua posizione la sua collocazione all'interno delle Brigade Rosse dobbiamo capire che questo fenomeno forse non lo vive questo momento così non lo vive è in qualche modo un personaggio atipico proprio perché rimane molto legato a questa sua realtà territoriale continua a vivere nello stesso quartiere addirittura si sente un pesce fuor d'acqua quando viene destinato ad una brigata che è quella di Torre Spaccata che non è più quella del suo quartiere ecco tutto ciò mi pare che illustri e spieghi abbastanza bene come premessa quella che è stata diciamo così la carriera tra virgolette brigatista del Maccari proprio questa sua collocazione diciamo così territoriale però ci aiuta a capire a spiegare perché egli svolse questo ruolo così importante e così rilevante in realtà Maccari nell'ambito del movimento romano e in particolare del suo quartiere era un personaggio di estrema importanza di estrema rilevanza e molto noto abbiamo sentito tutti quali sono stati da Maccari stesso e da altri testimoni indotti soprattutto dalla difesa appunto dagli reati connessi quali siano state le sue precedenti esperienze quali sia stata la sua storia personale quindi scontri con la polizia scontri con le parti politiche avverse servizi d'ordine e via dicendo tutto ciò implicava naturalmente l'essere comunque considerato personaggio diciamo così credibile attendibile serio e affidabile e dimostrava peraltro anche quella capacità di tipo diciamo così militare operativo che sicuramente era necessario alle Brigate Rosse per fargli svolgere quel determinato tipo di funzione delicatissima che poi gli sarà successivamente affidato e questa sua affidabilità che è un'affidabilità operativa ma direi anche e prima di tutto caratteriale era ben nota proprio a persone le quali ebbero un'importanza assolutamente decisiva nella fase di organizzazione del sequestro Moro e di organizzazione di quelle ridotte strutture più o meno compartimentate mi sembra fatto che si può essere rilevante ma non necessariamente da chiarire per acclarare le odiame di responsabilità ecco più o meno compartimentate che dovevano effettivamente gestire quel sequestro in quel momento in particolare abbiamo mi sembra molto importante sottolinearlo il Seghetti caro stretto amico del Maccari da moltissimi anni che quindi ben lo conosceva e che quindi ben poteva garantire sulle sue capacità operative e militari e caratteriali abbiamo poi la faranda anche lei lo conosceva bene abbiamo sentito come insieme a lei avesse partecipato pure ad alcune azioni di fuoco azione di Uras ecco si tratta quindi di personaggi che ben sappiamo hanno avuto ed è stato acclarato in numerose sentenze un'importanza assolutamente decisiva nella organizzazione e gestione del sequestro Moro e che quindi ben potevano essere le migliori persone in grado di indicare i soggetti giusti da utilizzare in quel determinato frangente ora ci si può chiedere ma perché una persona che in fondo all'interno delle Brigade Rosse non aveva poi avuto questa grande carriera viene immediatamente individuato come ingegnere a Tobelli ma proprio perché il suo essere in qualche modo presente in famiglia nel quartiere faceva sì che in fondo era una persona che garantiva quella sorta di insospettabilità che era proprio ciò che occorreva per la figura dell'ingegnere Altobelli a ciò si aggiunge a dire della Faranda che vi era anche un aspetto fisico fisico di Rol che sembrava garantire appunto questa ulteriore insospettabilità da parte del Maccani ecco questo insieme di situazioni mi pare che sia importante e rilevante per ricostruire i fatti oggetto di questo processo per valutare la personalità del Maccari per fornire al di là della ricostruzione a fini giudiziari degli elementi storici di conoscenza storica obiettiva che resteranno anche al di là dell'aspetto meramente giudiziario di questa di questa vicenda il fatto che questi calcoli siano dei calcoli giusti cioè che effettivamente Maccari fosse la persona giusta per ricoprire quel determinato ruolo dando idonee garanzie sul piano operativo e caratteriale da una parte e non fornendo invece sospetti al di fuori c'è stato confermato in questa sede da molti testimoni alcuni dei quali chiamati dalla difesa vorrei ricordare una testimonianza che rimeditata oggi appare forse quasi comica quella del test dei poverini diceva una latina nomina su conseguenza rerum beh sì ha fatto la figura del poverino questo signore dipendente della presidenza della repubblica che ci viene a dire sì sì ma io in quel giorno il sequestro mò l'ho incontrato Maccari era lì nel bar con i capelli lunghi ma non poteva essere lui l'ingegnere altobelli aveva funzionato bene la scelta di Maccari non le stava sospetti faceva vita di quartiere aveva mantenuto questo radicamento di quartiere era la persona ideale per fare da paravento a quell'azione terribile e poi il giorno stesso il giorno dopo della sequestro Moro da Maccari all'università gli stessi poverini ricordano l'udienza del 14 di maggio se può essere utile alla corte e che che magari il giorno successivo dall'università ci viene confermato da Davoli udienza ancora del 14 di maggio che lo incontra veramente all'università e durante durante un'assemblea ecco che veramente si chiude questo questo cerchio si comprende bene perché quest'uomo sia stato scelto per l'asvolgimento di quel determinato compito e il fatto che peraltro il Maccari non fosse conosciuto al di fuori di una ristretta circa ci viene confermato proprio dal fatto che altri brigatisti anche questi citati in questo giudizio che venivano da fuori Roma non lo conoscevano affatto per esempio Azzolini udienza del 18 di aprile non lo ha mai conosciuto addirittura la testimonianza di Franceschini che è già stata ricordata in precedenza anche questa rivista oggi assume una valenza quasi comica mi scuso se sorrido ma la cosa è grottesca io avrei voluto vedere la faccia di Franceschini quando aveva letto sui giornali che Maccari aveva confessato quando Franceschini qui con una sicumera francamente anche sgradevole ci ha detto ma no ma per carità Maccari in fondo era un poveraccio non poteva mai essere scelto lui per fare quel ruolo avere quella funzione quindi era stato scelto talmente bene da ingannare persino gli altri brigadisti ecco quindi che si chiude ulteriormente il cerchio se noi pensiamo a quello che è stato l'atteggiamento del Maccari in quei giorni ha ingannato la fidanzata al laterale di uccelli che noi abbiamo sentito qui con toni su cui francamente io non dubito sulla cui sincerità io non dubito ci ha detto la verità tutta ci ha anche detto che non dormiva tutti i giorni con Maccari ed ecco che una cosa coincide con la ricostruzione avvenuta dopo un po' meno coincide quello che ci ha detto la madre e la sorella di Maccari le quali ci hanno fornito una immagine di una presenza quasi continuativa del rispettivo figlio e fratello in casa comunque chiudiamo questa breve parentesi e il Maccari poi che fa critica pubblicamente il sequestro Moro in quei giorni inganna tutti inganna i suoi familiari la sua fidanzata in quei giorni quindi mi pare che le spiegazioni che ci sono state fornite dalla paranda circa i motivi della scelta del Maccari abbiamo trovato in quest'alla una piena totale assoluta conferma in tutte quelle testimonianze che ho relativamente citato ma direi in tutti gli atti in tutti gli atti del processo e conferma che poi last and least ci dà anche il Maccari in quest'aula dunque un uomo sicuramente provato dal punto di vista militare un uomo sicuramente provato nel senso di certato di sicuro di indica che Grazie a tutti.